Ehi, che cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Ed è un orlondo sai che io ti troverò, ovunque tu sarai, ti triggerò. E stringerò il controller fra le mani, mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà. L'impatto come adesso, non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia clima arriverà. Ma va 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 Beh E' terribile Lo prendo come un complimento Buon pomeriggio Buon pomeriggio a tutti Ben ritrovati su Wesa Twitch 27 giugno 2023 Grazie a Dave Grazie a Emile dei 16 e del Prime Grazie del supporto Ben ritrovati Ben ritrovati ragazzi Ben ritrovati su Wesa Twitch Stiamo oggi più che mai sfidando Le convenzioni della natura Stiamo più che mai sfidando il caldo E a livello di lucidità Non sarà facile condurre Questa chiacchierata Spero vivamente Stiate bene Parasocialmente che vada tutto bene Nelle vostre vite Spero che abbiate dei modi Per aggirare il caldo Per lenire il dolore La sofferenza data dal caldo Bella Remrust Grazie mille del Prime Devo dire che in realtà Almeno qui a Bologna Un paio d'ore dopo la fine di questa live Dovrebbe venire brutto tempo John, ci ho già letto il titolo E quindi in realtà domani Si dovrebbe già stare benone Questa live talk Ovviamente Perché non avevo Non avevo assolutamente Pensato di portare nulla di video ludico Questa live talk Che vorrei Vivo senza Ci sto provando Super Solenoid Ci sto provando Perché Vi dico la verità Il condizionatore In realtà Adesso al di là di tutte le gags Col caldo Ho imparato a convivere Molto meglio di un tempo E il condizionatore Non mi ha Mai fatto stare Particolero Cioè Mille sfighe Col condizionatore Quindi Sto provando Finché non fa In realtà Il caldo che uccide Non è ancora arrivato Quindi stiamo a vedere Bella Tanotro Grazie mille del Prime Bella Vapor Grazie anche a te Ho beccato il fossa Al concerto di Giammiro Queglio Ho chiesto la data di Wesleyan 2 Mi ha sorriso Ed è andato via Che cazzo di aneddoto è Oddio 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 E quindi E quindi niente Insomma Tutto bene Spero Non so quando sarà la data Di quella cosa Credo Superfluo dire Mai Puffator Anche perché Non so se Fossetti Lavora ancora con Every Eye Mi avevate detto di sì Però non sono assolutamente Aggiornato Grazie Puffator Intanto dei sei Non ci lavora più Hai visto la pubblicità Che lui e Mottura Hanno fatto di Rogallai Ma Rogallai Ha investito moltissimo In influencer Come vedevamo Come vi dicevo La volta scorsa Ero rimasto Molto Bella Sonara Grazie mille dei dieci Ero rimasto molto colpito Da dei noti Influencer Tech Italiani Che erano arrivati A definire Rogallai Complementare A Steam Deck Per cui Liberamente ho detto Boh Ma anche a livello americano Ho visto tantissima Tantissima Imponente copertura Di Rogallai Boh Interessante Credo che Asus Quindi Bella Intanto l'oppide Credo che Asus Abbia investito parecchio Nell'influencer marketing Che come sapete Se vuoi Soprattutto se vuoi scalzare Bella Salitore Grazie anche a te Dei 21 Se vuoi scalzare Steam Deck O comunque Devi farti largo Il pubblico Di Steam Deck È un pubblico Che guarda molto Secondo me I social E YouTube Quindi Può essere una buona idea Insomma Ciò Che Che farà schifo Non credo Che Rogallai Farà schifo Credo che sia Una figata Come sistema Credo che Ci sia semplicemente Il discorso Bella Lì per Raiden Ovviamente Credo che ci sia Il discorso Del costo E di volere Veramente avere Windows Su un portatile E del fatto Che Steam Deck Costa la metà E vi posso dire Che è una figata totale Ma come tutti sanno È una figata totale È una figata totale Naturalmente Alla quale Bisogna fare Molta attenzione L'altro giorno Ho compiuto Non intendo parlare Molto di videogiochi Oggi Perché ho un tema Il tema è Arnold Schwarzenegger E il senso della vita Bella il sussurro del mondo Grazie mille del Prime Ma Già che abbiamo Abbiamo tirato fuori L'argomento L'altro giorno Ho compiuto Un errore grave Un passo falso Guarda Sdiano Sono totalmente D'accordo con te Steam Deck Ti fa videogiocare Poi secondo me Nelle giuste Proporzioni Non fosse che Seguendo un po' Seguendo un pochino Di consigli Che in realtà Mi erano proprio Arrivati da La chat Bella Mr. Dromedario Come fai ad avere Quell'icona bellissima Col Versus Fighissimo Super ultra Bella anche Zuggistrom Grazie mille del Prime Insomma la chat Mi aveva citato E non solo la chat Mi aveva citato Vampire Survivor Vampire Survivor O Survivors Non mi ricordo Un gioco bella Matteo Grazie anche a te Del Prime Un giochillo Che ho installato Ieri Tra l'altro Credo sia ieri Esatto L'eroina è niente In confronto Vampire Survivor Esattamente Sonar E bella sedato Grazie anche a te Del Prime Infatti Anzi Ci tengo A ringraziare Pubblicamente Steam Perché L'ho installato Ho giocato tre ore Nelle quali Non so neppure Se ho respirato Mi sono talmente Fottuto Il cervello In quelle tre ore Che ho sollevato La testa E ho detto Questa cosa Non la devo solo Disinstallare Questa cosa Devo chiedere Immediatamente Il refund Anche se sono qua Tre ore Novantanove Devo immediatamente Chiedere il refund E poi ho visto Che avevo sforato E come le due ore Ero a tre ore E allora Immaginavo fosse un italiano Visto che era pieno Di tutte le gag Nostrane E allora Ho chiesto il refund A Steam E me l'ha concesso Guardate Steam Che mi concede Il refund Di Vampire Survivors Dopo tre ore Non due Di gioco Il giorno stesso Che l'ho acquistato Gli ho appena comprato Uno Steam Magari ha detto Siete Sto qua Diamogli Facciamogli un favore Bella Sono molto Molto grato a Steam Sono molto felice Di non avere più Vampire Survivor Nel mio Nel mio elenco Giochi Bella Reynold Van Buster Grazie mille del Prime E quindi E quindi nulla Mai più Mai più Mai più Mai più Cioè Veramente L'eroina In confronto Non è nulla Allucinata Geniale A modo suo Ma ragazzi Mio Dio Ho contravvenuto Al mio Mai più Roguelite Al quale ho contravvenuto Parecchio Da quando lo Steam Deck Nel senso che ho Voluto riprovare Ades E ho riprovato Dopo tanti anni Dead Cells Dead Cells Che inizia a giocare In accesso anticipato Nel 2017 Se non erro Comunque è uno dei primissimi Giochi che ho streamato Dead Cells Che era figo Poi peggiorò E li smisi di giocarci Ma veramente Tantissimi anni fa Ed è diventato Molto figo Molto molto figo Ma l'ho disinstallato Non è così droga Però comunque Non ci voglio avere Niente a che fare Però chapeau Perché Quello che è Lo fa molto bene E secondo me è Non una Non dieci Non cento volte meglio Mille volte meglio Di Ades Che ancora oggi Per me Rimane un mistero Se esiste Dead Cells Ed esiste Ades Perché io devo giocare ad Ades Che Dead Cells È molto più intrippante Come gameplay Ed è solo più figo Non lo so Questi sono Grandi dubbi Che mi porto Io su Ades Veramente un dubbio Che mi porto dietro Forever Bella corbe Grazie mille del Prime Perché proprio Se devo dire la verità Ma in che mondo Ades è meglio Di Dead Cells In quale dimensioni Calenda Dove Anche Isaac È molto meglio Di Ades Ma di cosa stiamo parlando Bah Veramente Che gioco Noioso Ades Mamma mia Comunque Detto questo Enter the Gungeon No perché Sono una pippa Con i Rhythm Game Anche se magari Ce la potrei fare Ma non lo so Ragazzi Non lo so Non lo so Sdiano Me lo ricordo Me lo ricordo Quel video Non che sia orrendo E non che sia orrendo Dead Cells Dead Cells Ha un gameplay Veramente bello Bella Alessandro Grazie del Prime Comunque Chi se ne frega Prima che inizi Il discorso serio Volevo farti una domanda Che mi è venuta Dopo La cosa con Capisco il discorso Sulla moralità Ma qual è la differenza Con il cinismo Bisogna capire Cosa intendi Con cinismo Se intendi L'accezione Popolare Che si usa O se intendi Il cinismo Il nobilissimo Cinismo di Diogene Magari essere cinici Come Diogene Comunque Insomma Ognuno i suoi gusti Chi se ne frega Ho visto la diffida Della rivista Le scienze Verso Ric Duffer Ha fatto un video Su Youtube Potrebbe Esserti utile Una parte del video Per un progetto Il progetto Libreria Uesa Non esiste più Quindi non ci Non ci interessa più Però Frazo Mi dovresti definire L'accezione Cinico Popolare Che intendi Perché se no Rischiamo di non capirci E Soprattutto Definiscimela Che così So che cosa Mi stai chiedendo Detto questo Volevo parlare Ma mi sono andato Mi sono andato a cercare Prima un'immagine Online Aspettate Che la volevo Mettere a schermo Vediamo se ha senso Fare sta cosa Allora Sfondo Sfondo Si vede Adesso vediamo Il buon Arnold Si 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 vede Si vede Si vede Veramente Forse così Ancora meglio Così si capisce Per una volta Vorrei Vorrei stare in tema Con quello che c'è a schermo Cioè parlare Di quello che c'è Sullo schermo Perché ovviamente Ho visto questa Questa serie In tre episodi Che si chiama Arnold Uno e Trino Che sta su Netflix E Ho visto questa serie E mi ha molto 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 colpito E mi è molto interessata Si si no no Lo sapevo Vapore Non so se stai rispondendo a me Pesissimo Pesissimo Addirittura Minaccia Di ripercussioni Illegali Oh ragazzi Quello si che è un drama Quello si che è un drama Pesissimo Bella Andrei Grazie mille Del Prime dei Tredici Come insegna il buddismo Per difendersi dal caldo Bisogna stare vicino Al fuoco Della pentola Con l'acqua che molle Comunque bella Per il drama Devo dire che Sia l'uno Che l'altro Il drama Lo sanno Lo sanno Convertire Insomma Sanno farne Un buon tasso Di conversione Del drama A parte questo Sbabbano Non ti preoccupare Strimmo solo Dal 2017 Hai un po' Di roba Da recuperare Lo ha detto Letteralmente All'avvocato Che magari Lo stesso avvocato Di Fedez Glielo augurerei Nel caso Intendivo Cines Mi ha inteso Come totale indifferenza Verso cose Come le ingiustizie E la sofferenza Altrui Ma se ti interessano Interessatene Se ne sei indifferente Si ne è indifferente Questo è il mio parere Arnold Schwarzenegger Lo stream Non dovrebbe laggare Siccome Mi dice che Il bitrate È ottimo Poi Non so che cosa dirvi Spero che vada Arnold Allora Innanzitutto Di che prodotto Stiamo parlando Non so se ve lo consiglio Adesso ve lo racconto Un pochino Bella Manu Phoenix Grazie mille Del Prime Dei 23 Non vale assolutamente La pena abbonarsi A Netflix Per vederlo Se avete Netflix Potreste anche Buttargli un occhio Sono tre documentari In realtà È un lungo documentario In qualcosa di meno di tre ore Diviso In tre parti Le tre vite di Arnold Che ha avuto successo E qualunque cosa ha fatto Ha avuto successo Le tre vite di Arnold Che sono Ovviamente Il bodybuilder L'attore E il politico Ma la cosa interessante La cosa interessante Di questo Di questo documentario È che naturalmente Mi immaginavo Come penso Voi tutti vi immaginate Mi immaginavo La geografia La santificazione La beatificazione Di Arnold Schwarzenegger E ovviamente Ci sono dei momenti Che sono tali Naturalmente Non immaginatevi L'opera critica Che analizza 360 gradi Ovviamente no Anche perché Il narratore Diciamo Sì Il grosso modo Narratore Comunque al centro Dell'intervista ricorrente Per tutti i vari filmati Eccetera C'è il contemporaneo Odierno Arnold Che ha Non so se sia anche produttore Ma insomma Chiaramente più che partecipato A questa produzione Uno di quei tre uomini Quella è un'altra vita Di Arnold Invece Invece Mi ha un pochino Stranito Mi ha un pochino Stranito Questo documentario E per capirlo Bisogna arrivare Fino alla fine Non è spoiler Cioè alla fine È la vita Di Schwarzenegger C'è lui che parla Ma mi ha un pochino Stranito Perché ci sono Degli elementi Che Mi hanno Mi hanno un po' Cambiato l'immagine Che avevo di lui Non che Grazie mille Roslan Grazie mille del Prime Non che me ne sia mai Veramente fregato qualcosa Di Schwarzenegger Intendiamoci Non sono mai stato Un fan Dello Schwarzenegger Inteso come Motivational Bodybuilder Eccetera Perché Non ne è mai fregato Niente di bodybuilding E Boh Sì ho visto alcuni Suoi discorsi Su Youtube Molto figo il video Che fece Quando Putin Invasi l'Ucraina Quello è un video Bello Cioè costruito bene Un gran discorso Ma al di là di questo Non mi è mai interessato L'Arnold Perché è stato Centrale Per me È quello Centrale Anche in questa immagine Cioè quello via di mezzo Quello degli anni 90 Quello 80 e 90 Per me soprattutto 90 Quello cinematografico Schwarzenegger Ebbe il suo prime Diciamo così Cinematografico Negli anni in cui Era il suo target E il target Dello Schwarzenegger Cinematografico Non penso di rivelare Nulla a nessuno Erano i bambini Cioè Da Terminator 2 Ad atto di forza Incredibile che questo documentario Non citi atto di forza Mi domando se sia una questione Di diritti Perché cita un sacco di roba E non cita atto di forza Comunque Ai Gemelli A Poliziottole Elementari A Last Action Hero Eccetera eccetera Sono film per ragazzi Bambini Ok E io ero proprio Quel bambino di 10 anni 8 anni Così che per me Schwarzenegger Era il numero uno Voi non Bella Guglielmo Grazie mille del Prime Voi non potete capire Quanto fosse il mio preferito Schwarzenegger Non me ne fregava Niente di Stallone Non me ne fregava Niente di Bruce Willis Di Mel Gibson Tutte le star Tom Cruise Non me ne fregava Una fava Di nessuno di questi Il mio preferito Era Schwarzenegger Ma era un bambino Cioè non sapevo neanche Che sto tizio Fosse un culturista Cioè la gag Che lui era grosso Ma come bambino Non la capivo neanche bene Sta cosa Cioè vabbè Lui era grosso E vinceva E picchiava tutti Ed era buono E simpatico Cose così E sono d'accordo Con quello che scrive Andrei Van Damme Stava simpatico anche a me Devo dire la verità Che aveva una simpatia Per Van Damme Ma i suoi film Facevano tutti schifo Però lui mi stava simpatico Sono d'accordo con Andrei Last Action Hero È anche uno dei film Della mia adolescenza L'ho amato alla follia Infanzia Per quanto mi riva Andrei Ma non puoi essere più vecchio di me Perché è un film tipo del 93 Vabbè insomma Last Action Hero Film che ho adorato E in questa narrazione Di questo Arnold Di Netflix Last Action Hero È il momento del fallimento Perché sapete che Ovviamente In questi viaggi dell'eroe C'è sempre il momento down Il momento in cui Il nostro eroe Incontra il fallimento E True Lies Che esce due anni dopo Il ritorno di Arnold Ancora a superstare Blablabla Ma insomma In tutto questo Il culturista Lo conosce È famoso ormai Mister Olimpia Non so quante volte Mister Universo Ovviamente Non Natural Che è superfluo Che ve lo dica E il documentario Nel documentario Arnold Lo dice esplicitamente Assegnando agli steroidi Però Non so se sia giusto dire Però non sono un esperto Circa il 5% Del suo sviluppo fisico Nel suo prime Il suo assoluto prime fisico Dovrebbe essere stato Il 1974 Diciamo non natural Nel senso Che usa l'asteroide Come tutti i culturisti Credo di sempre Ma sicuramente Di quell'epoca In ogni caso Ci sono tanti video Anche su YouTube Che dove troverete Ricostruita La Proprio il ricettario Diciamo di quelli Che si sa Sono stati i prodotti Che lui ha preso Quindi culturista Di altissimo livello Che nasce Ovviamente in Austria Da famiglia Con il padre Reduce dalla seconda Guerra mondiale Che ubriaco Era molto schizzato Da un punto di vista Umorale Faceva molta paura Era violento E buono A seconda dei momenti Eccetera eccetera Insomma Una vita difficile Pure in un ambiente paradisiaco Si vedono le immagini Del paesino Dove è cresciuto Schwarzenegger Sembra tipo Il paradiso Un posto Di una bellezza Naturalistica Sconfinata Bla 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 E E quindi c'è l'Arnold Dicevamo Culturista E poi c'è l'Arnold Politico Ma la cosa che mi colpisce È All'inizio Di questo documentario Un suo amico storico Dice Non ho mai Conosciuto Una persona Non Non so Energetica O energica Non saprei come dire Con tante idee Sogni e visioni Oppure Vincente Non ho mai Conosciuto Una persona Calcolatrice Come Schwarzenegger E questa è una cosa Che mi colpisce Molto Perché Questa frase Mi è rimasta E la sua vita È stata una vita Di grandissima Pianificazione Di grandissima Lucidità Ovviamente Una persona Estremamente Forte Da un punto di vista Caratteriale È superfluo Oltre che Effettivamente Un sognatore Un grande slancio Una voglia Di fuggire Dall'Austria Di conquistare L'America Fin da bambino Desiderava Gli Stati Uniti Eccetera Eccetera Estremamente Calcolatore E questa cosa La mettiamo lì Successi Su successi A sto gran fisico Poi diciamocelo Lui aveva una bella faccia Aveva una faccia carismatica Quindi questa cosa Lo porta a non essere Il solito culturista Ma un culturista Con un certo carisma E quindi Farà carriera Blablabla A un certo punto Lui Grazie a Conan Il Barbaro È solo un austriaco Che vuole conquistare Il mondo Cosa potrebbe andare storto Lui grazie a Conan Il Barbaro Prima c'è Pumping Iron Ci sono una serie Di film in cui Lui è proprio Il culturista Se non direttamente Se stesso Con Conan Il Barbaro È ovviamente Sempre una montagna Di muscoli Però è già Più Hollywood Più cinema Si impone Dagli anni 70 Di De Niro Al Pacino Dustin Hoffman Si passa agli anni 80 Di Stallone Quindi Rocky Rambo Schwarzenegger Si passa agli eroi muscolari Anche grazie Alla sua influenza Fa tutta la sua Mega carriera Hollywood Sempre crescendo E diventando famosissimo Blablabla E nel frattempo Sposa Una Kennedy Non mi ricordo Come si chiama Quella che è stata Per tantissimi anni La moglie di Schwarzenegger Una della famiglia Del ramo Della famiglia Kennedy Immediatamente dirà subito Non l'ho certo sposata Perché era una Kennedy Ma perché era una persona Molta in gamba E chi siamo noi Per obiettare Però è interessante Questo astuto Calcolatore Come viene definito subito All'inizio Nel frattempo Nel corso della sua carriera Vengono a mancare Come si dice Suo fratello E suo padre In particolare Quando lui è Negli anni d'oro Del suo successo Successo Ollywoodiano La cosa che mi ha colpito La cosa che mi ha colpito Di questo E che lui ammette Con grandissimo candore Ma lo ammette Sia nell'intervista Odierna In cui c'è il vecchio Arnold Nella sua villona Che in un'intervista Dell'epoca In cui c'è il giovanissimo Schwarzenegger Tra i 70 E gli 80 E lui dice Io non ho provato nulla Quando mi hanno detto Che è morto mio fratello Io non ho provato niente L'avevo completamente dimenticato Perché ero concentrato Sulla mia carriera E non riesco a sentire niente Forse tra qualche anno Sentirò qualcosa E poi lui direi Che fu la stessa cosa Con la morte di suo padre Naturalmente suo fratello Soggetto Alla stessa educazione Tremenda dei genitori Ha non solo Un'educazione Con il padre Così schizzato Che faceva paura Ma anche con un senso Di disciplina ferrea Ultramilitare Per cui anche la madre Era una tizia Che teneva da morire Alla disciplina in casa Tipo per mangiare Loro dovevano sempre Guadagnarsi il pasto Cioè delle cose Facendo flessioni E robe Insomma una cosa pesissima Lui dice Schwarzenegger Di oggi Con grande lucidità Questa educazione Così estrema Che mi ha forgiato E mi ha reso forte È ciò che ha spezzato Mio fratello Che credo si sia suicidato Non mi ricordo Bella Luca E grazie mille Dei cinque Quindi E questa sua indifferenza Mi ha molto molto colpito Lui la testimoniava all'epoca Ma non è che dica Niente di tanto diverso L'Arnold di oggi E questa cosa Mi ha molto colpito Non è una cosa Alla quale siamo abituati E mi ha ricordato Bella Luona Grazie mille del Prime Mi ha ricordato Una cosa che vedi Quando ancora guardavo la tv Un pochino di tempo fa Sarà stato 15 anni fa Forse ve l'ho anche già raccontata In una live di qualche anno fa A Domenica Im Che conduceva Mara Venier Non so se sia ancora così Però Mara Venier conduceva Domenica Im Anche cent'anni fa Lei ospitò Flavio Briatore E gli fece Sono sicuro di aver già parlato Di questa gag Chissà se qualcuno Se la ricorda Lei ospitò Flavio Briatore E per fargli la gag Per fargli la sorpresa Ospitò anche La prima moglie di Briatore Una signora Che fu Moglie di Briatore Fate conto Negli anni settanta Quindi quando Briatore Non era famoso Lei non era la figa Della situazione Eccetera eccetera Quindi tu vedi Una signora normalissima Un po' da altri tempi E Briatore E non ironicamente Ve lo giuro Briatore non la riconosce Glielo deve dire due volte Briatore magari è una persona Più lucida Glielo deve dire due volte Per dire chi è questa Ok Mi ha ricordato Lo stesso tipo di freddezza Di uno Voi direte Sono due cose diverse Certo che sono due cose diverse Ma mi hanno ricordato Una persona talmente rivolta Al conquista Agli obiettivi Eccetera Che sinceramente E profondamente Rimuove Le persone della parte perdente O comunque superata Della sua vita Questo è È una cosa che Ho visto tantissimo In questo documentario Di questo Di questo personaggio estremo Che fin da piccolo Visualizzava Vedeva se stesso Nel futuro No sapete no Com'è la legge Dell'attrazione Quella volta che un ragazzo Mi scrisse Mi scrisse su Instagram Ma tu credi Nella legge dell'attrazione E io andai a cercare su internet Pensando fosse una legge fisica E non era così Per cui se tu visualizzi Una cosa nel futuro Sicuramente accadrà E quindi Schwarzenegger Ne parla un sacco Dice sì Io mi vedevo Ma fin da ragazzino Ci può stare Mi vedevo Con una folla di persone Che gridano Arnold 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 Poi viene lasciato fuori Tutto il discorso Figa Perché quest'uomo Credo abbia scopato Più o meno Qualunque essere Di sesso femminile Gli sia andato nel raggio Di due metri Almeno per una ventina d'anni Ma questo è un altro discorso E quindi Arnold Arnold Tutti adoranti Il sogno di essere adorato Di essere al centro Dell'attenzione Di essere un'icona Lui che si era appassionato Al culturismo Attraverso i film Che vedeva al cinema Dei primi Ercole Hollywoodiani Eccetera Uno di questi diventerà Un suo mentore E bla 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 E quindi così Questa visualizzazione Questa fede Ceca No ceca Col cavolo ceca In realtà Estremamente lucida Nei confronti Del suo obiettivo Di quello che lui Riuscirà ad ottenere Parla anche del famoso Amico italiano Franco Non mi ricordo cosa Morto da qualche anno Forse la parte più Più toccante In realtà E lui I veri sentimenti E il vero momento Secondo me Autentico Di commozione E di tristezza Dedicata a qualcun altro È per il suo amico Franco Columbo 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 Non mi ricordo Che era sardo E dice uno dei pochismi italiani Che parlano tedesco E quindi Certo Andrei Decontestualizzato Potrebbe benissimo Essere una descrizione Berlusconi E come Lui Lì gli concede molto Verso la fine Si ferma proprio Si vede che lui Ha voluto Che fosse dedicato Dello spazio A questa persona E ne parla E spiega Quanto fosse legato L'amico con cui Ha condiviso tutto È una cosa Bella Bellissima Ma insomma Così concentrato Focalizzato Lanciato verso l'obiettivo O sei con me O ti sposti No? Una mentalità Molto americana Infatti lui dirà Io mi sono Sono nato in Austria Ne sono orgoglioso Ma mi sono sempre sentito americano Quando anche non parlavo una parola E un'altra Ha condiviso il successo Più che altro Gli ha dato L'ha portato con sé Anche cercando di farlo lavorare nel cinema Lo dice Arnold Si vede qualche Immagine di Cammeo Che ha fatto Colombo Columbo Columbo Scusatemi In film hollywoodiano Diceva Io cercavo sempre di piazzarlo Però lui diceva Io su di lui Ho sempre avuto un vantaggio Per sono più alto E quindi prendevano sempre Me Anziché lui Però dice Lui era un grande Non aveva niente da invidiarmi Eccetera eccetera E quindi Questa grandissima Focalizzazione Verso Verso l'obiettivo Con una grande pianificazione Un'idea di America Fin da bambino Pur essendo Arnold Ancora oggi E questa è una cosa Che mi stupisce Mi stupisce tantissimo Una persona Che non è che Ha l'accento Perché lui dice Io ho l'accento Arnold Oggi forse Si può dire Che abbia l'accento Ma ci ha messo Dei decenni A parlare un inglese decente Lui stava già Stava già in America Da otto Nove anni Ma raga ma questo aveva A un certo punto Il tizio Ha cento parole Nel suo vocabolario Io non so come una persona Possa rimanere così Refrattare a una lingua Tra l'altro Non necessariamente impossibile Per un tedesco Da imparare Uno di lingua tedesca Da imparare Assurdo Come cazzo Come cazzo fa Ad avere ancora Un accento Diciamo teutonico Tale e quale Oggi Schwarzenegger Per me sono cose Veramente incredibili Nel senso Io sono uno che tende Se sto due ore Con Rick Duffer Mi viene da parlare in Veneto Cioè capite Per me è assurda Questa cosa Ce l'hanno anche Tante altre persone Ovviamente Sì 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 Infatti lui aveva Questo accento incredibile Che tra l'altro Si apre una parentesi Importante su Schwarzenegger In realtà anche su Stallone C'è anche Stallone Che appare qualche volta E gli concede La vittoria alla fine Non so quanto Abbiano dato a Stallone Per fargli dire Sta cosa Comunque Cosa vera Anche per Stallone Noi abbiamo Un'idea di Stallone E di Schwarzenegger Incredibilmente Migliore Di quelli Di quello che furono Veramente come attori Perché da noi Sono sempre stati doppiati Dai migliori doppiatori Immaginabili E quindi Pur essendo stati Dei cani O giù di lì Come attori Li abbiamo sempre avuti Con questa voce Straordinaria E quindi Se tu vedi in italiano I film con Schwarzenegger Madonna Che presenza Che figata In realtà lo senti Questo accento tedesco Allucinante Che era in realtà Il suo marchio Che noi non abbiamo Minimamente importato Ma lo stesso Stallone Quindi la vera voce Stallone È incredibile Incredibile Che quel uomo Abbia potuto fare L'attore No no Ma Stallone è un grande Assolutamente Anche Schwarzenegger Cioè sta gente Comunque si è fatta Un culo grande Come una casa E non è che Gliel'han regalata Sta carriera Quindi assolutamente Dopodiché Lui va beh Fa il cinema Nel 97 O giù di lì Ha un infarto Ha un episodio cardiaco Pesissimo Per cui lui Quasi muore E lo prendono Per i capelli Gli fanno un intervento Che non riesce Dice che lui A un certo punto Era sveglio Lucido In sala operatoria Questi avevano già I ferri in mano E lui dice Ma che cazzo state facendo Non volevo perderti L'hanno tenuto sveglio Fino all'ultimo Poi lo fanno addormentare Una roba allucinante 60 ore di intervento Se la cava Ovviamente E quindi Beh insomma Non so quanto questo Possa essere legato Alle sostanze Che ha preso Alla vita che ha fatto Agli iper sforzi Che ha fatto Chi lo sa Sa che anche la sua madre Anche sua madre Soffre Da un punto di vista cardiaco E cosa succede? Lui Dopo tutta la sua parabola Di grandi successi Come intrattenitore Entra in politica Ma la cosa assurda Prima dicevate Berlusconi No la madre No non è viva Non è più viva Prima dicevate Berlusconi Ma Schwarzenegger Entra in politica Con alcune idee Di massima Ma senza Averne la più Pallida idea E praticamente Lo ammette Candidamente Nel documentario Lui Alla Di Maio A cui abbiamo pagato Gli studi Lui fa la stessa cosa Lui una volta Eletto governatore Deve imparare tutto Non che gli manchi La buona volontà Si intuisce che Non è un figlio di puttana Insomma È uno che vuole fare le cose Anzi Ha anche ottenuto Alcune cose importanti Anche se è logico Che il documentario Sorvò Cioè alcuni fallimenti Vengono mostrati Però vai tu a capire Lui era Era un Un repubblicano Ma la moglie Era una Kennedy Quindi Capite Il calcolatore Secondo me Molto intelligente In questo senso E quindi Va a fare Va a fare Il politico Ed è interessante Perché lui dice Che si candiderà Che non ha ancora Preparato nulla Ma anche grazie Alla moglie Naturalmente Ha la possibilità Di contattare I migliori strategist Tutto l'entourage Per costruire Una campagna elettorale Per uno stato Sia pur importantissimo Come la California Degna di una campagna Presidenziale E si dice Questo non viene detto Nel documentario Ma è cosa notore Si dice Se non fosse vietato A chi non è nato Negli Stati Uniti Di concorrere per presidente Schwarzenegger sicuramente L'avrebbe voluto fare Infatti lui chiamerà La terza parte Del documentario La prima è Che cazzo so Il bodybuilder La seconda è l'attore La terza si chiama L'americano Perché lui proprio La vede come una cosa No non l'ho vista Volpe Non mi stupisce comunque E lui vince Le elezioni Come governatore Della California In un momento di crisi Per la California Eccetera eccetera Semplicemente Perché fa Le battute Dei suoi film Che sono molto più Molto più famose In America Che qui Perché dovete Molti di voi Lo sapranno benissimo Schwarzenegger Icona pop Americana È molto legata A frasi Ad effetto Tipo al be back Eccetera Molto più che in italiano Lui ha sempre detto Io nei film voglio sempre Che ci sia una frase Ad effetto Una frase Si potrebbe dire Che l'ha già capito I meme Un estratto memabile Un estratto memabile Lui l'ha sempre capita Questa cosa L'ha sempre messa E lui In questi cazzo Di Come si dice Conferenze Con tutta la folla Che lo acclama Discorsi pubblici Eccetera Un sacco di frasi fatte Un sacco di citazioni Dai film Continua a dire Io sono l'uomo dell'azione Non solo al cinema Ma anche nella politica Tutti questi contenuti Completamente vuoti Fa anche vedere La sua preparazione strategica Per un dibattito televisivo Contro il candidato opposto La candidata opposto Non mi ricordo E dice proprio esplicitamente Dove non sono preparato Mi sposto Sulle frasi ad effetto E sul personaggio E praticamente Schwarzenegger Vince Le elezioni Come governatore La California Perché è Schwarzenegger Ma questa cosa Viene detta esplicitamente Lui è Schwarzenegger E quindi ha un'immagine E in più Una struttura promozionale Di grande livello E vince E quindi è Un genio calcolatore E lo è senz'altro Davvero interessante Diciamo che Coincidenza delle coincidenze Il matrimonio Gli è molto servito Per una carriera politica Che lui vedeva Già negli anni 70 Perché c'è lo Schwarzenegger Il ragazzino gonfissimo Che dice già Mi piace molto la politica E vorrei fare politica Quindi Non c'è niente di improvvisato In realtà E quindi È una Una macchina da guerra Ed è soprattutto Quindi Bella Michela Grazie mille del Prime Ed è soprattutto Un grandissimo venditore I paralleli I paralleli Con Berlusconi Si sprecano In questo senso Ma lui lo riconosce Anche Berlusconi Lo riconobbe Ma lo riconosce In un modo straordinario Lui a un certo punto Quando fa Quando fa Parla del cinema Della sua carriera cinematografica Dice Metà del lavoro È girare il film Metà del lavoro È promuoverlo E dice Gli altri attori europei Così Le star Della recitazione Che si sporcano A fare pubblicità E oggi Il modello Schwarzenegger Ha vinto Perché qualunque attore Metà del suo lavoro È andare in giro A fare la promozione Schwarzenegger Si girava a tutto il mondo Facendo su un mazzo tanto Per promuovere Ogni singolo film E Ah Tutti i fighetti Così No 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 Io sono un venditore Dice E tutta la vita è vendita Lui lo dice proprio Esplice Adesso non è questa La citazione alla lettera Ma è praticamente identica Dice Nella vita Non si fa altro Che vendere un prodotto Ed è quello che lui fa Ininterrottamente Con una pianificazione E una coerenza Incredibili Perché lui Bodybuilder Vede già lui Intrattenitore A livello cinematografico Vede già lui stesso Politico Ha già in un certo senso Pianificato tutto Una cosa un po' alla senna Per dire Una cosa Di una Lucidità E Come posso dire Come dicevamo prima O sei con me O ti sposti Questo ti sposta facilmente E Veramente Veramente Impressionante Incredibile La La fermezza Per cui Lui Come The Rock Certo Lui promuoverà Un'immagine di sé Dice A un certo punto Lui dice Ma è palese Che quella è promozione Dice Io sono Il personaggio dei gemelli Quello con Danny DeVito No? Quello sono veramente io No? Il buono Sempre che ha voglia di imparare Eccetera eccetera Sicuramente è parte Del suo personaggio Ma Lui promuove Questa immagine di sé Quando invece È un Uno schiacciassi E questo nel privato Deve avere delle conseguenze Aneddoto interessante Schwarzenegger Fa costruire una tenda Perché lui è Dipendente dai sigari Cioè Pare che sia una figata Te la vendono come una figata Ma è letteralmente una persona Che ha sempre un sigaro in bocca Cioè una dipendenza orrenda Stile Michael Jordan Non so sta gente Che si è fatta sto film Che questo è un simbolo di vittoria E quindi Quando è Presidente della California All'interno del palazzo Del governo Che sta a Sacramento Che è una specie di casa bianca Un po' in piccolo Lui fa costruire questa tenda Così può fumare Ininterrottamente Fa i meeting con le persone Con cui si deve incontrare Ma insomma Al di là di questo Che cosa succede? Succede che A un certo punto La moglie lo molla Ma perché lo molla? Ma perché lui ha messo incinta La governante Tipo 14 anni prima Cioè Lui si fa tutta la carriera politica È stato due anni Ok Quindi vince le elezioni E le rivince All'inizio le vince per poco Le seconde le stra Turbo vince Come governatore della California Ma lui Alla fine degli anni Anni 90 Periodo quindi cinematografico Aveva messo incinta Una governante E questa Ci ha fatto un figlio Che oggi è vivo e vegeto A cui lui vuole bene Eccetera E chiaramente la moglie Che è una Kennedy Tu immagini Scusa Ma che cazzo Mi racconti? E lo manda a fare in culo Immediatamente Quindi la cosa Allucinante Bella strapattone Grazie mille 16 chili di polpaccio La cosa veramente allucinante È che questo documentario Alla fine C'è molto lui Adesso nel presente Nella sua villa In mezzo alla neve bellissima Ma tu vedi Quest'uomo solo Che sfoglia L'album delle fotografie Di tutta la sua Questo bellissimo Album fotografico Che lui ha sul tavolo Questo tavolo Che da solo Varrà 100.000 dollari Tutto bellissimo Lui che fuma il sigro In questa In questa vasca Di acqua bollente In mezzo alla neve Di questa proprietà Infinita Il re del re E che è molto preoccupato Di cosa penseranno Gli altri di lui Dopo che sarà morto Che dice Spero di essere ricordato Come uno che ha fatto La differenza E chiaramente Questo documentario Dovrebbe Ma tu vedi Quest'uomo solo Che sfoglia il suo libro Con tutte le foto Di se stesso E ha parlato sempre bene Della moglie La famiglia Per me è importantissima Tutti quei discorsi Da politico E alla fine Non è riuscito A tenerselo nei pantaloni E sta lì È un'immagine Che mi ha Grazie Volpen È un'immagine Che mi ha Mi ha veramente Colpito Perché Lui riesce molto Schwarzenegger Belanche de Frabele Schwarzenegger è tipicamente Un mito Motivational E lui riesce A parte che è bravissimo A costruire lui E il suo entourage Costruire discorsi Narrazioni La sua storia è quello In più lui è stato Una forza trainante Nei film A cui ha preso parte Ci sono diversi interventi Di James Cameron Ok Ma qui Come vi ho detto Non si parla di atto di forza Non so per quale ragione Ma lui fu Trascinante Nella produzione Di atto di forza Ma è sempre stato Un figo in questo E quindi È molto facile Un personaggio come lui È molto facile Credere a quello Che ti racconta Ma non Nel senso Credere È vero È falso Quello che mi racconta Che cazzo ne so Ma credere Nel senso Bersi Proprio la sua visione La sua super narrazione Del self-made man Anche se Dirà Non sono un self-made band Tante persone mi hanno aiutato Non voglio sentirvelo dire Che è proprio un modo In realtà Straribadisce Di esserlo stato Comunque Ma poi ti accorgi Che se Ti stacchi Un attimo Dalla musica forte Dalla super figaggine Ti accorgi Delle cose Delle crepe E Bella Maniaco Grazie mille del Prime E ti rendi conto Che anche una produzione Come questa Che comunque va detto Non è totalmente promozionale Come vi dicevo Non è la geografia Per questo secondo me È interessante da vedere Anche una produzione Come questa Ti dà uno spaccato Abbastanza Non vorrei dire Nichilistico Però Un treno in corsa Inarrestabile Fortissimo Il più forte di tutti Gli affetti Lasciati alle spalle La moglie È una Kennedy Ma poi ti sfancula Se non lo tieni Nei pantaloni E poi alla fine In questa villa Da solo A sfogliare Sto librone Con le foto Di se stesso A dire Spero di essere ricordato Come uno Che ha fatto La differenissima Veramente Berlusconi La vecchiaia di Berlusconi È stata paradossale Perché era diventato Diciamo Un personaggio da meme Ma era diventato Per certi versi Anche patetico E strideva Con la voluta Eterna giovinezza Lo Schwarzenegger Di oggi Con questa barba Che gli sta malissimo Tra l'altro I capelli tinti Radi Strani Boh Non lo so Non so se l'avete visto Nel film che fece Con Stallone Di cui non si parla Minimamente Di Expendables Quando nel secondo C'è Schwarzenegger Che è assurdo Cioè cerca di ridere A talmente la faccia tirata Che per fare un sorriso Convoglia Tutti i muscoli Del suo corpo E si vede Questo vecchietto Che comunque Ancora solleva Non so qual è Non lo so Un'immagine Un po' Foster Kane Sì Ha sacrificato tutto È veramente sì Sono d'accordo Teodoro È giusto È veramente Cazzarola Che viaggio Comunque bello Vederlo attraverso La vita di qualcun altro Bello Interessante Poi per me Per ognuno Poi cose diverse Ma per me Il Last Action Hero Sono film Era un mito Schwarzenegger Negli anni in cui Ero proprio Il suo target Ok Cazzarola Lui riesce Veramente Con questa sua forza E questa sua Determinazione E questa sua convinzione Per così dire Se gli stai troppo vicino Non puoi vedere Al di fuori Della prospettiva Che lui comanda Ok E Ti trascina con lui Ma se ti allontani Di qualche passo E almeno questo Il documentario lo fa Se ti allontani Di qualche passo Dici Boh Stare vicino Sembrava che O così O la vita è una merda Mi allontano E penso Anche tu sei umano Ma soprattutto Forse Forse in realtà Hai ancora tanti problemi Da risolvere Che non sono il Keep yourself busy Che è la frase Che Schwarzenegger Ripete Alla fine Che è una bella frase Mantieni ti occupato Per cui lui dice Che va lì E lo fa vedere Che spalla la merda Dei suoi muli Che è tutto contento Ma è una cosa carina Adora gli animali C'ha sto cane C'ha i muli È bellina E dice Ti devi sempre mantenere occupato Che è un buonissimo consiglio Io credo che sia un bel consiglio Darsi da fare Non darsi Consegnare a se stessi Delle cose da fare Tenersi occupati Bello Ci sta Ci può stare Perché no Però è il solito discorso Qual è la natura del tuo agire Ok È il solito discorso Di che cosa distingue Una convinzione da un dogma Tanto crediamo in tutti e due Le stesse cose Ma per te è un dogma E per me no Tutti e due stiamo agendo Magari facciamo la stessa cosa Ma come lo facciamo Ok Qual è l'agire Per cui ti tieni occupato Per non pensare O ti tieni occupato Perché stai realizzando Te stesso Con Schwarzenegger Uno dice È la realizzazione Di se stessi Alla centomiliardesima potenza Cosa c'è di più realizzante Di una vita Alla Schwarzenegger Eppure Sembra un uomo Che ha schippato Delle fasi Della vita A un certo punto dirà Siamo sempre dei bambini Cresciuti Noi uomini Siamo sempre Un po' stai frasi Però forse non tutti Questo treno Ha saltato Delle fermate Ecco la sensazione Per usare la metafora di prima È che questo treno Abbia saltato Delle fermate E alla fine Ripeto Non ho antipatia Per ci farsene ai granzi È comunque un figo Per mille aspetti Però alla fine Non ti convince A me non mi convince E ho visto Degli aspetti Delle ombre Non conoscevo Non è che poi sapessi tanto Non immaginavo di vederle No bella Price on mic Grazie mille dei cinque Non immaginavo di vederle Di vederle da questo documentario Non lo so Scod Non lo so Poi è naturalmente impossibile Ovviamente chi conosce Schwarzenegger di persona Nessuno Quindi ovviamente Noi vediamo sempre un personaggio Il personaggio che parla del personaggio Strati di personaggi In realtà in questo caso Ma Voglio dire Quando Quando noi guardiamo le biografie Leggiamo Guardiamo le biografie Perché ci interessa La biografia Dell'attore Perché ci interessano Le vite delle persone Perché vogliamo vedere Come fanno gli altri Perché È un genere letterario Vecchio come il mondo È di grandissimo successo Quello della biografia Perché piace così tanto Perché vogliamo sapere Come ha vissuto Abramo Lincoln Come vive The Rock Come vive Fedez Uno dice Per sognare Non lo so Magari per imitare A volte Cercare di copiare Alcuni sogni Magari Ma Soprattutto Perché vogliamo vedere Come gli altri Si sono posti Che problemi si sono posti Come li hanno risolti Cioè È come a scuola Cercare di copiare Cosa sta facendo l'altro E questo che cazzo fa E questo come cazzo L'ha portato avanti la vita Visto che nessuno ne ha un'idea E tu come cazzo hai fatto E lui lì come cazzo ha fatto Visto che Si presume che siano sempre i miti I grandi eroi O di grandissimo successo E quindi Ispirazione Ispirazione anche negativa Perché tu puoi vedere Una persona come fa delle cose E dire Ok Io sicuramente così non faccio Ok Mi hai messo un riferimento negativo Può benissimo essere E quindi Log Quelle tre Quelle tre parentesi No Fubus Non stavo parlando di lui Col dogmatico No Non stavo parlando di lui Fubus No Non stavo Non stavo dicendo questo Il documento è su Netflix Sì 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 Il documentario Sì 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 E quindi Boh È interessante Molto molto interessante E È un esercizio di idealizzazione Ma soprattutto è un esercizio Di autopromozione Oggi si Si usa tantissimo L'ha fatto Quando è uscito Come si chiama il documentario Su Michael Jordan Oh The Last Dance Quando è uscito The Last Dance Si sa che Come si vede anche Dall'adattazione del materiale Quel documentario lì Era pronto da decenni Ma Michael Jordan Non l'aveva mai Fatto uscire Lebron aveva fatto La mega rimonta Con Cleveland E Michael Jordan ha detto Sapete che c'è Partiamo col documentario Molto figo The Last Dance Sì 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 È veramente È veramente Uno strumento di promozione Pensate quanto oggi Le persone famose Vogliono avere il loro documentario La serie su loro stesse Eccetera È lo strumento di promozione finale Perché poi vanno Su queste piattaforme E tu hai passi delle ore In compagnia del mito Che ti vuole dire Lui com'è E come lo devi amare Come lo devi ricordare Eccetera Non a caso Pippen si è incazzato Per The Last Dance Perché È vero che The Last Dance Mostra tanti aspetti Di Michael Jordan Ma sembra che Pippen Che è stato fondamentale Sia stato un ostacolo Da superare Per Michael Jordan Te credo che gli sono girate Le palle Al di là che Pippen Secondo me non è tutto a casa Ma insomma Al di là Al di là di questo Ha vinto la bomba Ah scusami 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 Ha vinto il quarto titolo Sì 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 Scusami Hai ragione Tra l'altro Non ci stava con le date Infatti Ora esce quello su Steph Ifer Ragnez Avevo pensato anch'io Esattamente Esattamente Sì sì Pippen ha fatto due cagate Però ha fatto due cagate In mezzo a Senza Pippen Michael Jordan Stava a zero titoli Quindi insomma Con calma E quindi È È veramente Ma è vecchio come il mondo Dall'epoca degli imperatori romani Si cerca Si cerca di scolpire La propria immagine E di Di fare In ultimo Nel caso di Schwarzenegger Che lui dice A 75 anni Madonna Io gliene davo di più 75 anni E Dare l'ultima La chiusa In qualche modo Una sorta Anche Michael Jordan Beh lì è un po' diverso E lì è un po' diverso Comunque Uno strumento promozionale Pazzesco E L'idea Di questo Per promuovere se stesso Per promuovere se stesso Schwarzenegger Lavora ancora sodo E sodissimo E durissimo Se andate sui suoi social Non sta fermo un momento L'ultra americano Schwarzenegger Più americano Degli americani Un uomo profondamente Da sempre Amante Ed idealizzatore Dell'america Come paese Dell'opportunità Della realizzazione Personale E come paese Della promozione Ininterrotta E un realizzatore Di questo ideale Che oggi In tanti Imitano I più forti Personaggi online Ma quelli proprio forti Alla The Rock Hanno Accettato O Concluso Che La loro vita Sia Un Una narrazione Promozionale Costante Non c'è mai Una frase Fuori posto E anche le frasi Fuori posto Sono studiate È un lavoro Incredibile Tra l'altro Non è un lavoro In questo senso Ha ragione a dire Devo ringraziare Tanta gente Non può essere Il lavoro Di una persona sola È il lavoro Di uno staff È il lavoro Di un team Cioè la carriera Di Schwarzenegger Ha sicuramente avuto Degli albori amatoriali Ma a un certo punto È diventato un lavoro Di team Figuratevi tanto più Nella politica Per cui Cosa succede Quando ci sono Le grandi elezioni In America Quanti film Lo mostrano E quante volte L'abbiamo visto Anche ai telegiornali Ci sono gli staff Che lavorano Sull'immagine Lavorano alle obiezioni Sulle polemiche E quindi gli Obama E quindi Trump E tutti questi Questi personaggi Sono Molto più Obama In realtà Di Trump Che invece È un Come si può dire Uno che va a braccio Pro e contro Pro perché Questo in alcuni punti Gli ha dato una narrazione Che per una parte Dell'elettorato È risultata Liberatoria Vedi un po' Un primissimo Berlusconi Contro perché Ti escono tutte Le peggiori stronzate Possibili Poi nel suo caso Ok Ovviamente Deve avere un cavallo Di razza Per così dire Non è possibile Che chiunque Sia Schwarzenegger Con il giusto team Dietro Obama è Obama Cioè uno che si sa fare Eccetera eccetera Però È una Questi personaggi Di ultrasuccesso Tu vedi Schwarzenegger Ed è l'ultrasuccesso Definitivo Questi personaggi Di ultrasuccesso Sono Un lavoro Si può dire Tra virgolette H24 Di rifinitura Di attenzione Ai dettagli Di cura Di ogni Di ogni aspetto pubblico E oggi Con la iperproduzione Di contenuti L'aspetto pubblico Finisce quasi per occupare Alle 24 ore È pazzesco Pazzesco Trovo che questi documentari Debbano ricevere Il peso che meritano Prodotti in serie Per ogni tipo Di celebrità E narrazione Non sto capendo Cosa stiamo tentando Di ricavarci Cosa dici Fubus Secondo te Cosa stiamo tentando Dimmi 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 che sono curioso Ti vedo Ti vedo Ti vedo forte oggi Dimmi Fubus Cos'è che non ti convince Sul serio Visto che sei molto generico In queste tue obiezioni E non entri nel merito Cos'è che non ti convince Di quello che sto dicendo Perché magari è interessante Vabbè In attesa Chiedo io a te Cioè tu chiedi a me Cosa non ti convince Di quello che sto dicendo Fubus Come faccio a dirtelo Scusa Dimelo tu Io ho detto Quello che ho detto Su questo documentario Quindi quello che ci ho tratto È quello che ho detto Evidentemente Vedi te Filippo Giardina Che ha sostenuto Da Dario Moccia Che ogni influencer Sia un guru Necessitava di te Nella stanza Rafforzare Beh dovremmo Dovremmo definire guru Dovremmo decidere Che cos'è un guru Nel senso che Guru È difficile È molto difficile Come definiremmo guru? Vediamo cosa No non l'azienda Ma non era fallita Tra l'altro Definiamo guru Che è interessante Guru è un termine Io vado Guru è un termine Maschile Ok va bene Religione induista Il maestro spirituale Ok 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 Ma Nell'accezione Moderna Complimenti a questa pagina Andiamo su English È brutto Siamo Ogni influencer È un guru Cosa ne pensate? Non lo so Potrebbe anche essere Potrebbe anche essere Eh ma infatti è fallito Mi ricordo che guru Sava sulla macchina di Alonso Cent'anni fa Truffatore che ti risolve la vita Qualcuno con i deleghi La tua capacità pensante Io mi definirei tale Madonna Spero di no Spero di no Certo dobbiamo definire Però spero di no Spero di no Ma ognuno È un pessimo giudice Di se stesso Chiaramente Guru è Chi il guru fa Si potrebbe Ma Giardino L'ho visto molto in difficoltà Non so quanto potrebbe Aggiungere al discorso A non sull'altro Che potrebbe rientrare Nel discorso di Alonso Bisogna vedere Come evolverà La vita di Alonso Sono curioso Vogliamo vedere un pezzo Di Dario Moccia Con Giardina Volentieri Molto volentieri Ragazzi Se ne avete un estratto Per caso ne aveste un estratto Molto volentieri Non lo so guru Perché guru Tendi Cioè guru magari Faccio fatica a immaginare Faccio fatica a immaginare La figura di guru Senza il contenuto spirituale Quindi non mi viene da dire È un guru Chi non mette il carico Metafisico Spirituale Mistico Ok Però magari si potrebbe Cioè il mio dubbio Non è se Se il concetto Cioè capisco che cosa voglia dire Ma mi domando Se non sia un Un tirare Per la giacchetta Un concetto Ecco Mettiamola così Sì paternalismo Certamente sì Anche per me Cioè tipo Come si chiama Tony Robbins È un guru Ecco Tony Robbins Magari non c'è L'aspetto spirituale Non lo so Ma non credo Boh Però lui è un guru Perché è uno che ti risolvo la vita Ti risolvo la vita a pagamento Ovviamente Però sì Ecco tenderei a vedere A definire guru Però a questo punto Uno potrebbe Boh Non lo so Esatto Sì più o meno Sì dai Uno che punta a farsi idolatrare Sì però Però è già più ampia La definizione Perché una persona Che punta a farsi idolatrare Non necessariamente Una persona che Punta a risolverti la vita Uno potrebbe Semplicemente voler essere un idolo Ma fregandosene Di offrire soluzioni Paramiracolose No Aranzulla top guru Ma forse no Perché non c'è il personaggio Da venerare Anche se un pochino È diventato famoso Ma non Guida spirituale Maestro intellettuale Tra l'altro Maestro intellettuale Allora diventa peso Perché qualunque filosofo Qualunque pensatore È un guru In questo senso Lui si concentra molto Sul fatto Scusate devo leggere Cosa scritto Si concentra molto Sul fatto che Tutti e tre Big Luca Rick Ma veramente Io pensavo fosse una gag Big Luca Rick e Dario Vendono se stessi E vendono qualcosa Uno Non capisco cosa ci sia Di male a vendere se stessi Due Allora bisogna entrare Nel merito di cosa si sta vendendo Oltre a se stessi È molto difficile Non vendere se stessi Sicuramente Sparzanegger Nel suo Essere un promotore Costante Ha venduto i prodotti A cui ha lavorato E ha sempre venduto Se stesso Ad esempio Sparzanegger è stato Ed è tuttora Un grandissimo venditore Di se stesso In un certo senso L'indipendenza Se tu sei una figura Indipendente Quindi non affiliato Non so Al giornalista di Repubblica Vabbè che ora si personaggia Tutto Ok Però Se tu sei Il giornalista di te stesso L'imprenditore di te stesso È chiaro Che vendi te stesso A mio avviso Il problema Il problema Non è vendere In sé Forse considerare Che ogni Ogni atto Della comunicazione Sia una vendita Per cui Ogni fiato che respiri Stai vendendo qualcosa Possiamo discutere Non credo sia giusto Ma è una questione Di Che cosa fai Con gli strumenti Della critica Cioè tipicamente Un venditore Un venditore Classico È una persona Che Mette enfasi Su alcuni aspetti E ne nasconde Degli altri Per cui tipicamente Io non mi Rivolgo al venditore Per avere informazioni Sull'oggetto della vendita Quindi La persona che vende Se stessa Io non mi rivolgo A lei Per sapere qualcosa Su di lei Ok Però Come dire Le informazioni Devono circolare Siamo da capo Un'informazione Ne deve battere un'altra Per ottenere l'attenzione E quindi si lotta Per la visibilità E la visibilità Si ottiene di solito Abbassando Il livello Anche abbassando La pretesa di verità E poi la verità Richiede una completezza Che richiede un approfondimento Che non è economicamente sostenibile Da un punto di vista Della gestione del tempo Eccetera Quindi Il solito discorso Il meglio Il meglio Essere trasparenti Non lo so Il simp Non l'ho visto Non l'ho visto Bella Kefka Vediamo L'aspetto più interessante Della live di Giardina Riguarda il discorso Relativo a giornalisti Divulgatori Eccetera Facendo riferimento A vari shy Che fa le battutine Lucarelli Che fa le shitstorm Lucarelli Intesa Selvaggia O quello Quello della tv Dove insulta L'altro E mentana Che blasta Per funzionare sul web È come se dovessi Necessariamente abbassare La sticella Oltre al problema Il personaggismo Sostituendo i vecchi media Non necessariamente Corrisolto Sì ma in generale Sono d'accordo Con questo discorso Credo che sia Un discorso Valido Lo condivido L'ho fatto tante volte Bene o male Ma era proprio così Però sì Aspetta Che clicco Aspettate Blastatuit citalia Peso Jordan Peterson Super solenoide Che peso Che peso Quando la realtà Quando la realtà Viene a bussare Alla tua porta E alla faccia Di Prigoz Com'è che si chiama Prigozin Prigozin Ah ma queste Ah però sono cinque minuti Beh dai cinque minuti Possiamo spararceli Spariamoci cinque minuti Allora dai Aspettate che vi alzo Vi alzo il volume Eh ve lo alzo Ve lo alzo Sì Era meglio alzato Ma abbassato qui Mi sembra che fosse Questa la gabola Vediamo Vediamo cosa dice Vado Sentite Ma sei magro Simone Ma quant'è dimagrito L'audio si sente bene Ebbene E con estremo piacere Che facciamo Alza un po' Benissimo Benissimo Filippo Giardina Eccolo Eccolo qua Buonasera Marra Marra l'ho messo a regime In che senso Ah beh per l'alimentazione Buonasera Milano Sempre bello essere a Milano Questa città tutta Classismo e cocaina Ho visto l'esibizione Prima di Blanco sotto cortisone Mi è piaciuto Un po' di body shaming Facciamolo Quando mi hanno detto Di fare queste interviste I ragazzi del Cerbero Prima mi hanno detto Ma ti va di fare 5 minuti Io ho detto no Ci provavo falli E allora sono andato un po' in ansia E ho detto Che cazzo dico 5 minuti E allora stanotte Ho fatto un incubo Pensando proprio a qua E mi sono immaginato Che i ragazzi del Cerbero Alzo Oggi mi avrebbero costretto A fare un buccache Con io in ginocchio E loro tre tutti intorno C'era Marra umile Come sempre Allora guarda Per prenderlo bene in faccia Devi metterti così È fattuale Poi c'era C'era Dudubi Che era infervorato Che mi faceva Ti esci calone Te lo meriti E Mr. Flame Sempre sobbio Che se stava Magna un back bacon Sono contento Di questo applauso Perché mi sarebbe Molto dispiaciuto Risultare cringe Un po' fuori luogo Come Shy Quando presenta Il Breaking Italy Night Insomma Allora ho pensato Ma che dico Cinque minuti A una premiazione Mi è venuto subito in mente Ricky Gervais Alle cerimonie Dei Golden Globe Voi direte Tu non sei Eri Gervais È vero Non vi spiego le battute E non sto in fissa Piegatti Ma Che stronzo Ma soprattutto Voi non siete Il Golden Globe Con tutto rispetto Cioè lui prendeva per culo De Niro Al Pacino Io Con Dario Moccia Ma dovremmo Dai Dai Che poi dite Dario Moccia Cioè Se avessi avuto Vent'anni Quando c'eravo vent'anni Io gli avremmo menato Tutti i giorni Così Perché non se sa Ma gli avremmo date Invece oggi Lui un po' nerd Con gli occhiali È diventato uno streamer Di successo Forse il più di successo Ha fatto i soldi Pieno di figa Dario Moccia Allora ho detto Boh A sto punto Mi butto pure io su Twitch Anche perché C'ho quasi 50 anni E sono l'unico Che letteralmente Potrebbe essere vostro padre Me lo merito proprio Di diritto Ora però ho pensato Che mi metto a fare Me lo so studiato un po' Ho detto Sfruttiamo le cose Che magari mi vengono naturali Tipo che ne so Io sono mezzo autistico di mio Mi potrei fare una grammata Mi bevo tre monster E mi agito tipo Blur Oppure potrei diventare Il nuovo Masseo Dovrei solo bestemmiare un po' De meno Sicuramente non potrei essere il nuovo Greenbaud Perché se vado a chiedere A quindicenne Con chi scopa Mi arrestano Non so che sia quest'ultimo Se proprio non mi viene in mente niente Gaming Questo è il senso del mio intervento Ma a pensare bene Forse non sono adatto a Twitch Perché io sono uno molto venale E secondo me su Twitch Non si guadagna Guarda me lo dice Si guadagna Ma in realtà Guadagnare con Twitch È come guadagnare con il gratta e vinci Perché compriamo il gratta e vinci? Perché tu quando vai dal tabaccaio Vedi quello che c'è dietro Tutti i biglietti che hanno vinto E tu dici Figo Ma lo compro pure io Ma se ci fosse un tabaccaio onesto Ci dovrebbero stare Tutti quelli che hanno perso Entresti in questa tabaccheria Dove c'è sto poro tabaccaio Che è sommerso A tutti i biglietti E a me è un gratta e vinci Sei sicuro? No E lo stesso vale su Twitch Fanno parlare solo quelli che ci guadagnano Esatto Le pronte C'è mai un'intervista A voi dice Ciao sono Paolo Ho tre sub Faccio sei ore di diretta al giorno Ma non mi sa in culo a nessuno Però adesso sto pensando di suicidarmi in diretta Incrociamo le dita Incrociamo le dita Fate questo cazzo di applauso Twitchettari Twitchettari Quando ero piscello io c'era il piano bar C'erano quelli che non riuscivano a fare cantanti Che stavano lì a fare da sottofondo Alle scene dei ricchi annoiati E quello è Twitch Quella roba là Un piano bar No? Vi posso insultare un pochetto Perché voi state in fissa Per della gente che soffre Io prima di entrare ho chiesto a Dario Moccia Quante ore di live ha fatto sto mese? 180 ore Ma è da ricovero poraccio E voi state in fissa Quindi che cos'è Twitch alla fine? Gente che per far contenuti si rovina la vita Che persone che non hanno una vita Grazie a tutti Grazie Interessante Interessante Non vale per tutti Dipende da quanto le fai Da cosa ci fai Però Interessante Ci sta Credo che si applichi Ad alcune Ad alcune realtà Bella Musotros Grazie mille del Prime Credo che si applichi ad alcune realtà Spero non a tutte Spero non a tutte Ma soprattutto Spero non a tutte Anche io pensavo fosse una cosa più incalzata Spero non a tutte Da un punto di vista del pubblico Come vi dicevo A me spaventa l'idea di una persona Che passa le sue giornate da spettatore su Twitch Sì un po' si di Volpion Nel senso che Cioè se c'è una cosa che uno Ritiene sia valida Sì È come la televisione D'altra parte Twitch ricorda la televisione Da un punto di vista della fruizione Quando Quando ero piccolo Tutti mi scherzavano Ma quando ero più piccolo Bella PR3 Grazie mille del Prime C'era la figura del teledipendente Cioè di quella persona Che a prescindere Stava davanti alla TV Qualunque cosa ci fosse Se non c'è un cazzo Faceva zapping O si guardava una cosa brutta E non c'è niente Mi guardo una cosa brutta È quella stessa cosa con i videogiochi Se non c'è un cazzo da giocare Vabbè gioco un gioco di merda Devo comunque videogiocare E quella è la figura più triste Si spera sempre Che esista un consumatore critico Poi ovviamente cosa direbbe Postman Leggete il libro di Postman Se siamo capiti Ma insomma Sicuramente su Su alcune popolazioni Il discorso che lui ha fatto Prende molto bene La cosa più interessante È rovinarsi la vita dello streamer Che non viene considerato Nel senso che nel momento In cui una persona fa dei soldi L'obiezione è Come si rovina la vita Questo fa i soldi E quindi È un passo più avanti Il suo discorso Quello lo apprezzo Fantozzi Con i due telecomandi Esattamente sì Bella Jetson Grazie mille del Prime Guardiamo tra Rick e Giardina Se volete buttarmi un po' di contenuto interessante Dove ci sono delle cose belline da vedere Volentieri Molto volentieri Dario e Rick Dario, Rick e Giardina Rick e Giardina Ragazzoli Voi sparate Rick e Dario Dario Ma Dario è Moccia o Giardina Oddio Oddio Mi sono perso Aspettate Clicco Clicco Ciao amici Benvenuti Ah ma va là Ma va là Ma va là Ma va là Allora Eh però Ovviamente Ovviamente Ah ma tra l'altro sono tutti e tre insieme Esattamente Se avete un minutaggio Lo Lo guardiamo Se no È troppo Sono troppo Ovviamente troppo lunga Sull'onda di quello che hai detto Dei gatti Che bastano a se stessi Non so più Secondo Frecomoccio Ho capito tutto Ho scoperto il comunismo realizzato I gatti hanno realizzato Appena l'automazione Attraverso Lo dobbiamo prendere da loro La risposta di Rick e Giardina Non l'ho vista Mi è stato detto Che si va verso Per vie legali Ah ci sono i capitoli Ci sono i capitoli Vediamo i capitoli In difesa di Big Lug Problematiche del profilo pubblico Influencer disruption Cambiamento Responsabilità delle istituzioni Bukowski dittatore Esperienza sul web Utente abbastanza stabile Imparare a scherzare Processo creativo e ispirazione Caverna di Platone Domande malposto assorbenti Cambiamento dopo un burnout Conclusione Qual è la parte bella 35 minuti Influencer disruption Frega In difesa di Big Luca Anche a me non sembra così interessante L'inizio Salto il minuto Radio Tomo E' vero E io ho chiamato effettivamente Rick Dufer Quindi benvenuti A Filippo Giardini A Rick Dufer A Riccardo Dalferro Ciao ragazzi Benvenuti E grazie Non lo so ragazzi Sento che andiamo un po' troppo A perderci Sì Credo che ecco si riferissi A un utilizzatore Della televisione Voglio dire la stessa cosa Si potrebbe dire Anche per i libri O per i film Quindi Vorrei contestualizzare A me con la frase Diego Ma non mi ricordo Da dove si è presa È incasinata È incasinata No vabbè Non stiamo a impazzire Non stiamo a impazzire Su recuperare Voglio vedere cosa è successo Scusate Vogliamo il gossip Gossip Poi Gossip legale Gossip Legal thriller Voglio vedere il legal thriller Voglio vedere il legal thriller Cazzo 53 minuti PD La parte finale Vado a 43 minuti Vado a 43 minuti Voglio andare a 43 minuti Ci vado Ci vado Ci vado Ci spariamo gli ultimi 10 minuti Ci vado Perché sono sinceramente curioso Trovati qui sul canale Di Rick Dufer Siete in una puntata diversa Dai soliti dei Licogito Questa non è una giacchetta da Giacomo Con dei video Che dicevano cose Che in realtà Sono anche interessanti Le interazioni Grazie mille Per il supporto In questa vicenda Grazie Grazie a te E ai tuoi ascoltatori Allora Adesso Dopo questa parte Più informativa E secondo me Anche interessante E positiva Per quanto possibile Grazie mille o meno Grazie del Prime Dobbiamo arrivare alla parte Che ritengo più Sgradevole della vicenda Che in realtà Mi sono chiesto Fino a pochi minuti A volte forse sì Frazzuc Però mi dovresti circostanziare Gli articoli Però Non tanto Ma un po' sì Ti fa se inserire o meno Però Mi sento costretto Perché Per quanto in passato Io sia stato già tirato Per la giacchetta da Giacomo Con dei video Che dicevano cose Di me In modo anche abbastanza fastidioso E non ho mai Cercato di rispondere Ho sempre Cercato di ignorare E passare avanti Perché Perché io faccio il mio lavoro E sarebbe bello Se anche Giacomo Facesse il suo E qui lo voglio dire Io ho stima Del lavoro di divulgatore Come Giacomo E mi capita ancora oggi Di avere persone Che mi chiedono Ma se voglio interessarmi A evoluzionismo A biologia Dove devo guardare E io lo dico In modo assolutamente onesto Entropy for life Uno dei migliori canali Di divulgazione scientifica E però stavolta Secondo me abbiamo passato Un po' il segno Perché se in passato Io avevo ricevuto Delle tirate di giacchetta Un po' Mi piace il concetto Di tirata di giacchetta Direi innocue Bambinesche Che ho sempre saputo ignorare Beh stavolta Beh sempre ignorato Però mi ricordo una volta Che Rick Sarei incazzato di brutto Quella volta che disse a Giacomo Non mi devi più Riassumo Non mi devi più cagare il cazzo Non mi nominare più Mi ricordate che una volta Fece quella cosa C'è stato un tentativo Di danneggiare il mio lavoro In modo concreto E non solo il mio lavoro Ma anche la mia azienda E la mia immagine E questa cosa Non posso più ignorarla Io in passato Non ho mai voluto rispondere Per quanto abbia avuto Esatto 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 Molte interazioni Ho con Giacomo Di Entropy for Life E voglio spiegarvi brevemente Perché a un certo punto Mi son detto Ok non ho più voglia Di interagire con questa persona Ma veramente scaglia Se fossimo in America Ci sarebbe lo scontro Fra youtuber sul ring Diciamoci la verità Era mio mecenate Lui ben prima di avere Il canale YouTube Ben prima di cominciare Il suo percorso di divulgazione Era mio mecenate su Patreon Era nella mia chat di Patreon Ed è lì che l'ho conosciuto Abbiamo chiacchierato Ci siamo conosciuti a un evento E anche in base Dopo ci guardiamo All'ispirazione che io gli ho dato Lui ha cominciato a fare il lavoro Che ha fatto L'ho anche aiutato Ad aprire e pensare il Patreon Lui è venuto ad alcune serate con me Io gli ho dato dei consigli Ed ero molto contento di questo Perché io sono sempre contento Quando il mio lavoro è di ispirazione A qualcuno che ha delle buone informazioni E vuole metterle a disposizione del pubblico E lui lo fa bene questo Però fin dall'inizio Lui ha mostrato la tendenza A volersi fare strada Non solo con le sue informazioni Con la divulgazione Ma anche screditando il lavoro altrui Potrei farvi moltissimi esempi Ma farò alcuni esempi Che concernono il sottoscritto Per far capire Fu cacciato dalla mia chat di Patreon Fu letteralmente bannato dalla chat di Patreon Se non sbaglio lui aveva aperto da pochissimo Il suo progetto di divulgazione Ragazzi comunque veramente backstory Io so alcune cose ma non so tutto Pesissimo Perché quando io pubblicai il video Su Alexandria Ocasio-Cortez E il concetto di sovrappopolazione In cui facevo dei ragionamenti Che poi potevano essere discutibili Ma ci mancherebbe Lui disse insultandomi Che ero un disinformatore Dei peggiori Io già lì Mi fermai e dissi Vabbè ok Lasciamo perdere Alcuni amici In quell'ambito Visto che ci tenevano Amici reciproci Condivisi Ci convinsero E convinsero me A fare una cena A casa mia In cui Riuscimmo a chiarirci In cui riusci a farlo ragionare Sul fatto che forse Certe reazioni Non è il caso di averle Si può discutere in modo molto più Però fu un episodio Che poi Venne seguito da altri E Accade poi il patatrack Nel 2020 Merda Il patatrack Per me era già un patatrack Pesissimo Il patatrack Dopo il patatrack Quando ci fu il caso Di Genus ed Ayrk Ve lo ricorderete sicuramente Ah mi ricordo Si alzò un Lì ci ho fatto il video anche io Andrea Lorenzon Ci fece Una Una vignetta satirica Io feci un'intervista All'editore E anche un video In cui parlavo Del fatto che Ayrk Ovvero L'associazione per la ricerca Contro il cancro Aveva rifiutato Un finanziamento Da parte di un calendario Che era prodotto Da un autore satirico Veramente Tittotano E' un vero Don Alemanno E per me fu una cosa Che mi indignò Onestamente Feci un contenuto Dicendo Ayrk Questa cosa non va bene In mezzo a questa cosa Io dissi anche Che ritenevo abbastanza Strano E abbastanza Riprovevole Il silenzio Dei divulgatori scientifici Facendo di ragionamenti A riguardo E lì Giacomo Reagì Senza Venirmelo a dire Anzi Avemmo una telefonata In cui però Fu abbastanza Diplomatico E poi ho scoperto Che Su chat Con altri divulgatori scientifici Scriveva cose Terribili su di me Una cosa Mi è rimasta E io Pensate se in Evangelion Anziché Third Impact Si dicesse semplicemente Il patatrack Pensa te Muso atroso Oddio Vorrei dire Ricordatevi che Cari divulgatori scientifici O comunque creatori di contenuti Ce le scambiamo Le cose Che vengono scritte Nelle chat E quindi Veniamo a conoscenza Di queste cose qua Scrisse Dufer vuole fare Le views Sui bambini Che muoiono Di cancro Ecco Capite bene Che di fronte a questa Io non posso dire Ma si vabbè Una bambinata Io Io lì decisi Che con questa persona Non volevo più avere nulla A che vedere Umanamente Per quanto poi Di nuovo Io credo che il suo lavoro Sia assolutamente Assolutamente L'ambaradana Il secondo Di qualità Da quel momento Accaddero varie cose Lui Mi citò In svariate altre Lui disse In live Che avevamo litigato Ma non era così Nessuno ha litigato Io semplicemente ho detto Vabbè Se uno scrive cose del genere Senza In faccia E motivandole Io non è che abbia Una volta Era una chat Che c'erano tutti gli youtuber Ma quella chat lì è morta Ma tanti anni fa Gran che voglia Di perderci troppo tempo Io gli chiesto Ma poi non uso più telegram Più volte Più volte di smetterla Di citarmi E di parlare Di me In modo peraltro Impreciso Approssimativo Lui mi scrisse anche Ok non ti citerò più Poi invece Ha pubblicato Quei due video Sull'effettiva altruism L'anno scorso Di nuovo Con questo tono Di screditamento Raga Mi state veramente Facendo ridere Della mia figura Ok come fa un filosofo Insomma Tutta una serie di elementi Che hanno sempre dimostrato Il fatto che lui Con me C'ha un rancore Veramente Veramente molto forte E molto personale E io anche lì Ho cercato di non reagire Perché io non voglio Farmi tirare dentro Queste cose Non mi piace Ragazzi Il flame Fatto in questo modo Non mi piace Perché Per me Il flame è un bel gioco Ma lì non c'era più il gioco Erano state delle cose personali Molto pesanti Non lo so chi ha ragione Non lo so chi ha ragione Però Sono giunto alla conclusione Che a Giacomo Sta veramente molto Sul cazzo Rick Dufer Questa cosa Credo sia vera Mi sembra proprio Che a Giacomo Sta molto sulle palle Rick Probabilmente C'è veramente Uno stargli Sulle palle reale E quindi Ma io Con Giacomo Ho un ottimo rapporto Sempre ho avuto Un ottimo rapporto Mi dispiace Questa cosa qui Mi dispiace Però Mi sa che L'avevo detto anche l'altro Si capisce Che c'è del personale Ma c'è del personale vero E peccato Insomma Ho capito dalle sopracciglia Stavolta però Stavolta però Ho proprio cercato Di danneggiare La mia azienda La mia immagine Ha cercato Di recarmi Un danno economico Serio E siamo passati Da quei giochi Di flame Che potevano essere ignorati Alla cosa Da adulti Senza che Giacomo Abbia superato L'adolescenza In questo tipo Di atteggiamenti E ciò mi rammarica molto Mi rammarica molto Perché in primo luogo Io anche questo video Lo vedo come Sottrazione di energie E tempo A quello che avrei potuto Produrre per la community E questo Mi rompe Mi rompe Dover fare queste cose qua In secondo luogo Perché Sai Quando poi Cerchi di danneggiare Il lavoro di una persona Che fa Quello che faccio io Che ha una realtà Molto ben avviata Spargendo balle Facendole passare per un Ma cosa ne pensate voi E vi dicendo Beh lì Perché in realtà Giacomo poteva tranquillamente Scrivermi E vi posso assicurare Se mi avesse scritto Boldrina Devo dire che sono molto stupito Che Boldrina sia stato Molto aggressivo Con Giacomo Ragazzi Vi prego Vi prego Vi prego Trovatelo con il minutaggio Vi supplico Vi supplico Vi prego Sto male Ah sul covid Anni fa Anni fa No pensavo su questo 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 Ok 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 Sto dicendomi Ric ma cosa fai con Le scienze Io gli avrei mandato Il documento E gli avrei mostrato Quello che l'altro avvocato Mi aveva detto E gli avrei spiegato Invece lui Ha preso Ha scritto Ma quindi si può fare Dopo guardiamo il minutaggio Che diceva Questa cosa è interessante Quindi si può fare Cioè io posso leggere Dei peccati Dei divulgatori scientifici Dove ci sono alcuni A cui io non sto particolarmente Simpatico per vari motivi E ha detto Ma qualcuno ha il contatto Del direttore delle scienze Prontamente qualcuno Gli ha dato il contatto Giacomo è un po' più grosso Ma ricca un'apertura All'area maggiore Sì e no Ok ok Ha detto Dopo 17 1723 1723 1723 Si aggiunge del contenuto Quindi in realtà Bisogna commentare Quello che si legge E deve essere trasformativo Il solito discorso Ok 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 Film Quindi non Come lo volevo fare io In altra Come volevo fare il canale Solo lettura Insomma Come Lukashenko Tra l'altro oggi pensavo Lukashenko È il Com'è che si chiamava È il Legno Doris Di Putin Pensateci È vero Ovviamente Putin Essendo Berlusconi Lukashenko È Legno Doris Di Putin E lui ha scritto E lui ha scritto quella mail Scatenando poi Questo domino Di eventi È proprio triste Quello che è successo È proprio Triste Perciò Perciò Un ultimo avviso È veramente Stavolta L'ultimo avviso Giacomo Ennio Ennio Doris Ennio Ennio Doris Basta Ti prego Basta Perché questa roba Fa male a tutti Fa male a me Fa male a Ma le letture Erano trasformative Alla fine facciamo Le nostre riflessioni Sì 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 Aspettate Ragazzi Incredibile Sto seguendo due cose Contemporaneamente Ovviamente male Entrambe Te fa male al pubblico Nelle chat in cui scrivevi Ci sono persone Che mi hanno girato Ogni qual volta Tu abbia scritto qualcosa A mio riguardo Sempre Perché è quello che succede Questa cosa è però inquietante Devo dire Questa cosa è inquietante Nelle chat in cui scrivevi Io ho sempre saputo C'era sempre qualche mio uomo All'interno Che mi informava Di qualunque cosa Tu scrivessi Sempre È pesissimo È pesissimo Troppa paura In queste settimane Non c'è stato Un evento A cui abbia partecipato In cui Altri divulgatori scientifici Non mi abbiano espresso Solidarietà Per Dai Max Oddio raga sta morendo Oddio Questo brutto fatto A cui tu hai dato vita E perciò ricordati Che questi atti qua Poi Hanno delle ripercussioni Anche sulla tua immagine pubblica Anche sulla tua capacità Di creare relazioni Sulla tua capacità Di essere Un creator affidabile Che non significa soltanto fare bene Che non significa soltanto fare bene il lavoro di divulgatore Significa anche avere una caratura umana Che ti permette di essere affidabile agli occhi degli altri Tante persone non hanno opinioni molto gentili nei tuoi confronti Anche a causa di quello che hai fatto a noi Non a me A noi Alla mia azienda A Federico Che è una persona con cui tu hai collaborato E evidentemente a tutto quello che circonda questa attività Io devo dirlo Insomma gli sta dicendo Te stai a sputtanà Ma sarà vero Ma comunque che serve Da tiz ti ho letto Mi stavo esplodendo il cervello Stavo male Basta perché se porterai avanti ancora questo comportamento Che mi dispiace È un comportamento molto infantile Non c'è un altro modo per definirlo Io sarò costretto ad agire per altre vie Ma raga raga Però io sto male Sto male Queste frasi mi uccidono Ma le altre vie Lo dice la riga dopo Ma se fossero delle vie Ragazzi per una volta Per una volta Esatto Se Rick dicesse Tu mi costringi ad agire per altre vie Ma tu ti aspetti le vie legali E invece io non intendo le vie legali Te vengo a pigliare e te torchio Ma menatevi Ma io non lo so O magari sono le vie del signore Che sono infinite tra l'altro Ma in ognuna delle vie del signore Pur essendo infinite C'è qualcuno che gira la chat Del signore A Rick Vai da Rick Tiri la giacchetta Pensi di essere figo E da dentro la giacchetta Occhieggia E riluce Un tirapugli Magari la giacchetta Non gliela devo più tirare Tanto materiale Tanto materiale Per dire Ragazzi Qui ci sono dei problemi Molti problemi E questo non vuole essere Veramente Non è una minaccia No aspettate Mi sono perso Basta Perché conda questa attività Io devo dirlo Scaglia Sto male Oddio 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 Si squarcia Ed esce ovviamente Rick Dove fare però con un'altra giacchetta Sto malissimo Andiamo avanti Raga devo capire Non devo più leggere Devo capire cosa sta dicendo Basta perché se porterai avanti Ancora questo comportamento Che mi dispiace È un comportamento Molto infantile Non c'è un altro modo Per definirlo Io sarò costretto Ad agire per altre vie Ho tanto materiale Tanto materiale Per dire Ragazzi Qui ci sono dei problemi Molti problemi E questo non vuole essere Veramente Non è una minaccia È un Per favore Basta Tu puoi Continuare a fare il tuo lavoro Senza problemi Senza spargere bugie Su quello che io faccio Sono e produco E io credo che il tuo lavoro Possa avere Un lunghissimo futuro E grande soddisfazione Ed è quello che ti auguro Però Basta Dimentica Rick Dufer Lasciami perdere Spegni quel rancore lì E Un reciproco niente come prima Ok E questo è tutto Bene Detto questo Io spero È veramente quello che Che gli aveva detto Anche l'altra volta Cioè Levami Staccate Però ho avuto Ho la sensazione Ma Penso che ce l'abbia anche Rick E Cioè L'altra volta Gli disse le stesse cose Anche se non c'era di mezzo L'avvocato Gli disse le stesse cose E Il risultato È stato Quello che poi è successo Quindi Forse non funzionerà Però non lo so Comunque è pesissimo Perché comunque due persone Che conosco adesso Con cui sono sempre stato In buonissimi rapporti Con entrambi Mi fa un po' Devo dire la verità Mi fa un po' impressione Mi fa impressione Che non possano fare la pace Però È pesa 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 Cioè È indiscutibilmente Indiscutibilmente È Un intrattenimento Allucinante Non tifo per nessuno Però devo dire una cosa Devo dire una cosa Cioè Sta cosa Delle scienze Boh Pesante È proprio È proprio una cosa pesante Cioè Le critiche Ci stanno tutte Però Lui ha segnalato Alle scienze Che stava Facendo Non lo so Non lo so È che bisognerebbe Sempre sentire Tutte e due Le campane No Però Che pace Che pace È un po' amico Delle guardie Ma parecchio Parecchio Sinceramente Ma anche perché Non si capisce Cioè Per difendere Le scienze Inteso come La rivista Non lo so Non lo so Minuto 17 Minuto 17 Che era interessante Minuto 17 Vediamo un po' Cosa dice L'avvocato Di Rick Da copyright Nel senso Che E questo capita Tante persone Che lavorano Sul web Può capitare Di voler Divulgare Diffondere Citare Riprodurre In vari modi Dopo vedremo Vedremo cosa vuol dire Contenuti Che sono Tratti da altre Riviste Da altri Libri Da altri Video su youtube O da altri contenuti Multimediali Questi evidentemente All'origine Sono protetti Da copyright Però E questo Lo facciamo Lo riconduciamo Al termine Nordamericano Fair use Cioè uso Leale Uso corretto Vi sono Delle ipotesi In cui È possibile La condivisione La divulgazione La divulgazione Diciamo È alto È alto Non so se arriva A 1,90 Ma è alto Citazione in generale Di opere altrui Coperte da copyright Per determinate finalità Ovviamente questa è un'eccezione Quindi non sempre Ma è possibile È possibile farlo La figura del fair use Nasce negli Stati Uniti Ma viene poi Anche Giacomo È alto Possiamo dire Che in termini Generali È recepita Anche dall'ordinamento Italiano E non solo Dall'ordinamento Dell'Unione Europea Perché in Italia La materia È stata Riformata Nel 2003 In attuazione Di una direttiva Comunitaria Quindi parliamo Di un principio Che vale in Italia Ma possiamo Secondo me Vi dico Che cosa succederebbe Sul ring I due Si avvicinano L'uno all'altro Immaginateveli Vestiti come dei pugili Pugili di fine 800 Stesse muovenze I due si avvicinano L'uno all'altro Pronti Per accapigliarsi Ma in quel momento Le due barbe Si riconoscono Perché sono ovviamente Delle entità Senzienti a sé Le due barbe Si riconoscono Capiscono Che c'è La sorella barba Dall'altra parte Si uniscono E si fondono In un'unica Gigantesca barba Che annichilisce L'uno e l'altro E nasce Una gigantesca barba Bionda Per valido Anche negli altri Paesi Che è quello Della Delle libere utilizzazioni Rimangono Rimangono ricche Giacomo Completamente nudi Completamente glabri Scusate Scusate Credo che potrei Trovarmi degli avvocati Di opere altrui Per determinati fini Ora io non voglio Annoiare il pubblico Però Una norma Almeno la devo citare Ci mancherebbe Nel senso Che è quella Che regola Questa materia E c'è L'articolo 70 Della legge Sul diritto D'autore Sapete che sta roba Credo di averla Letta su internet Che è la legge 633 del 41 Molto Molto risalente Ma come vi ho detto Così riformata Nel 2003 Leggo solo il primo Comma Che è quello Che ci interessa E dice Il riassunto La citazione O la riproduzione Di brani O di parti Di opera Bellato esatto Grazie del pranio La loro comunicazione Al pubblico Sono liberi Se effettuati Per uso di critica O di discussione Sì ma raga Non sto andando avanti È vero Raga L'abbiamo già fatta Sta gag Si deve usare Un uso trasformativo Anche in Italia Quindi la gag È che anche in Italia Si deve fare un uso trasformativo Quindi letture viola vanno meno Perché alla fine Si fa una discussione Eccetera Forse è meglio Farlo un po' più in mezzo La discussione Però dai Secondo me va bene E come volevo fare io Che leggo e basta Non va bene Eravamo già giunti A questa conclusione qua Perché Se non ricordo male C'è stato un precedente Anche in Italia Che di fatto Si rifà A la cosa come è in America Più o meno Quindi Bene 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 così Bene così Non c'è stata Una replica Da parte di Giacomo Che voi sappiate Anzi Figuratevi Che ve l'avevo detto L'editore lì Notte e tempo Mi aveva scritto Erano contentissimi Mi volevano mandare Tutti i libri di Bung Sulan Gli ho detto Ce li ho già tutti Anche perché non voglio libri E così Non c'è stata una risposta Ok 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 Beh vabbè no Ci stava a sentire L'altra campana E mica peraltro Mica peraltro Ha ragione Rick Nel dire che è un gran peccato Sta cosa Non lo so Cioè a me sembra Che L'idea di Giacomo Di segnalare alle scienze Che Rick stava leggendo I loro articoli Uno può dire Sta difendendo una rivista Che non deve andare in rovina Per il bene di tutti Questa può essere una visione A me sembra Che nasca Il fatto che Giacomo Sta sul cazzo Rick Dufer Se devo dire la verità Poi uno dice Ha ragione Giacomo Ad avere sul cazzo A stargli sul cazzo Rick Dufer Ognuno pensi Quello che vuole Però Boh Non lo so Cioè Che palle Boh Non lo so Ha ragione solo Rick Ma su cosa Cioè in realtà Su cosa poi Cioè nel senso Sulla cosa delle scienze Boh Se è legale è legale Se non è legale Non è legale Lo sapranno gli avvocati Io non ne ho la più palla Da quello che ho capito È legale Perché Rick commentava Criticava eccetera Sti cazzi In generale In generale Su cosa Le pronte Perché Devo capire Cioè Ha ragione Rick Dufer In generale Nella vita Sempre Non lo so Forse non sempre Però bisogna capire Di cosa stiamo parlando Potrei Melonius Ci si potrebbe chiedere Ma le scienze Ci guadagna O ci perde Se Rick legge Un suo articolo Che è una giusta domanda Perché magari Rick Fa pubblicità alle scienze Magari le scienze Torna un po' Sulla bocca di tutti Magari le scienze Vende più copie Qui nel solito discorso Della pirateria Che fa vendere più playstation Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Dovrebbe essere No Lettura e commento Dovrebbe essere Trasformativo Sì Eh Xcode Questa è una bella domanda Salitore Immaginavo Melonius Immaginavo Sembra secondo Rick Giacomo impazzito Non lo so Non ho una perizia Psichiatrica di Giacomo Non lo vedo da tempo Non lo so Non mi sembra Il Giacomo Che io ho conosciuto Non è una persona Con la testa sulle spalle Molto E quindi Non credo Che sia impazzito Non lo so Però Ragazzi Se voi lo seguite Lo potrete capire Io non credo Non mostrava mai Per intero gli articoli Credo che non c'entri Nulla Perché comunque Se fai una cosa Trasformativa Boh Però Non lo so Non lo so E c'è l'avvocato Lo saprà Potremmo analizzare Le sopracciglia Esattamente 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 Vabbè È una mossa Che cerca Di danneggiare Una persona Che gli sta sul cazzo Cioè Secondo me È questo E Al di là Delle ragioni legali Che io credo Che Rick Duffera Però Lo sapranno Gli avvocati E probabilmente Magari gli avvocati Di Giacomo Dicono un'altra cosa Al di là Al di là del fatto Che credo Che Rick Abbia ragione L'idea Di cercare Di mettere Nei guai Una persona Perché quella persona Ti sta sul cazzo Siamo Siamo tutti umani Sappiamo Magari Magari Qualche cosa Di specifico Che sicuramente Io non so Quindi Sul discorso Views Non lo so Giacomo È una persona Molto Molto Matura E conscia Dell'utilizzo Che fa Di internet E la stessa Cosa Rick Duffer Perché Come abbiamo detto Altre volte Lo dicevo io Prima Sono entrambi Due Che Il dissing Le polemiche Li hanno Li hanno davvero Saputi Utilizzare Con maestria Credo Quindi Non sono Una cosa Che secondo me Un po' stride Infatti con La vena Che si chiude A Giacomo Capito Non sono due Che fanno le cose A caso Online Sono molto Strateghi Molto consapevoli Eccetera Quindi Chi lo sa Che lo sa E qua siamo Al processo Le intenzioni Sti cazzi Insomma Strateghi Come Arnold Credo che Il livello Arnold Sia raggiungibile Da pochi Da pochi Però è Sicuramente Un modello Insomma È un piccolo Sono due piccoli Schwarzenegger Secondo me Sono due piccoli Schwarzenegger E Vedremo come Finirà In quasi 8 ore Random Physics Top Canale Lo sapete Veramente Top Canale Mamma mia Lui è veramente Un figo Porca Troia Per me Bravissimo Se non lo conoscete Questo è un canale Che dovete seguire Visto che Io non Non sempre Ho visto qualcosa Ogni tanto vado a vedere qualcosa Il cosiddetto Ma lui per me è il numero uno È il numero uno Cioè questo Ma va là è con Shai Ma va là Bella Shai Cioè se penso alla scienza Su Youtube Al di là di tutto Penso a questo canale qua Anche perché Se penso alla scienza Penso alla fisica Quindi Per me è proprio Ah è un pesce d'aprile Un pesce d'aprile Scusate 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 C'ero cascato ovviamente Beh otto ore Non devi pensare Che è un video Fatto che Ecco che me lo guardo È un video che sta lì Come risorsa E strumento Perché poi in futuro Magari vuole Una stampella Per capire Mercadini Sul perché non dà consigli È interessante Visto che ne ho parlato Recentemente Non di mercadini Dico del discorso Dei consigli Ci sto È uscito La donna che rise Di Dio Perché non do consigli Ai giovani Ci sto Guardiamo Mercadini Perché oggi Il naso si abitua Ai cattivi odori Peso I cattivi odori Vincono Mi è capitato Più volte Di recente Che mi si chiedesse Magari Lo velocizzo Per ragioni di live Di dare Un consiglio Ai giovani È una richiesta Che mi Anche questa è una barba Veramente importante Io purtroppo Non sono Me la dovrei far crescere Ma mi dà fastidio Può essere Balfrocco Ma è vero È una lettura Assolutamente plausibile A quel punto Giacomo poteva Eventualmente A sua volta Consultare un avvocato E magari avrebbe ottenuto Le stesse risposte Da Rick Che ha ottenuto Rick dal suo Cioè Guarda che in realtà Lo puoi fare Lo so In un terribile imbarazzo Perché? Perché io mi ricordo Di quando ero giovane E mi ricordo L'insufferenza La terribile irritazione Che provavo Verso quelli che davano Consigli ai giovani Le facce Sono morto L'irritazione era dovuta Credo A due cause Principalmente La prima causa Che quando tu dai Un consiglio Ti poni Perciò stesso In una situazione Di superiorità Ad un'altezza maggiore Dalla quale profondi E le regisci A chi sta più in basso Di te Consigli È da evitare È da evitare Certo Se ti chiedo Un consiglio Discorsi che abbiamo già fatto Se vi ricordate Abbiamo fatto questi discorsi In live Non troppissimo Puoi darsi Io ti dico Senti Tu che in questo circoscritto Esatto Dipende Esatto Dipende Dipende da come ti poni Eccetera Però comunque Sono abbastanza Ambito Molto preciso E ristretto Hai effettivamente Oggettivamente Più esperienza di me Mi puoi dare qualche consiglio Mi puoi aiutare Qualche indicazione Me la puoi dare Quello è legittimo Ecco Si può dare una risposta Di quel caso lì Ma Di tua iniziativa Perché mi dai dei consigli E poi La seconda causa Di irritazione È che il consiglio Fosse dato Ai giovani Ma io E forse non sono stato Solo in questo Ho passato la mia gioventù Da un lato a soffrire Per la mia diversità E dall'altro a gioire Della mia diversità Che mi faceva sentire In qualche modo Un po' confuso Speciale Ho passato la mia gioventù Da un lato a nascondere La mia diversità E dall'altro a mostrare Esibire Evidenziare Esagerare la mia diversità Quindi questa cosa Che uno ignorasse La mia diversità Ed esse il consiglio Ai giovani Pretendendo di conoscermi Pretendendo Anzi Che non ci fosse bisogno Di conoscermi Perché poi Chi è che non è diverso Si potrebbe fare una domanda E domandarsi Chi è che non è diverso Il potere Dire Di sapere Cosa Dovessi io fare Quale fosse l'indicazione Da darmi Cioè mi sembrava una cosa Veramente intollerabile Veramente intollerabile E poi dicevo Ma Al di là di questa Log Risposta emotiva Di questo fastidio Miscerale Io tentavo anche A modo mio Di razionalizzare la cosa E dicevo Vabbè ma se anche uno Ha avuto più esperienza Di me Anche se ha già visto I tre Arnold Arnold, Dufer e Entropy Attenzione che sta per arrivare Arnold, Dufer e Entropy I quattro E i mercadini Come vanno le cose Ma lui ha visto un caso Cioè lui ha visto Gettare il dado una volta Ma il dado ha molte facce Il dado magari non è un dado Non è perfettamente a fuoco Magari è più facce Ne ha 12 Ma non è neanche 12 Ne ha 20 Unico 6 Non è neanche Ne ha 20 Ne ha 100 100 E' uno zocchietro E' uno zocchietro Non è un unico Zocchietro Questo è un regalo Che mi ha fatto un amico Un estimatore Diciamo E' molto bello Questo qui si chiama zocchietro Io non lo sapevo Si chiama zocchietro Perché lo ha Disegnato E mi ha dato tal Lu Zocchi Che è un esperto di giochi Ecco E in realtà è un po' così Capito Non è che puoi Dire Ah ma sentire il dado Viene 37 Ma a te è venuto 37 Ci sono 99 altre possibilità Questo è il punto Capito Quindi Tu mi vuoi spiegare Come va il mondo Ma tu hai una tua Limitata esperienza Non mi hai detto Che le cose vanno sempre così L'ho velocizzato Non puoi dire Viene 37 Puoi dire A me è venuto 37 Questo lo accetto Se poi ho sentito un altro A cui era venuto 54 Questo lo accetto Ma non puoi dire Viene 37 Poi C'è un'altra questione C'è un'altra questione Che provo a spiegare Uno dei consigli Che più Mi angosciava Oltre a irritarmi Era questo Era Devi andare via Tu se vuoi fare il teatro Tu se vuoi fare lo spettacolo Tu se vuoi diventare Noto Devi andare via La sala di Cesenatico Devi andare a Roma Devi andare a Milano A Milano A Roma Via La sala A Roma A Milano Via La sala di Cesenatico Io ero molto affezionato A questo paesino Dove infatti tutto l'abito Anche perché lì c'era La mia La mia morosina Che poi sarebbe diventata mia moglie C'erano i miei amici I miei affetti I miei parenti Ma chissà se ho mai beccato Mercadini Quando ero Un roboso Ubriacone A Cesenatico Chissà se l'ho mai Se l'ho mai incrociato Ma più o meno avremo la stessa età E poi mi sentivo Angosciato L'idea di vivere in una grande città Non faceva per me Adesso forse Mi divertirei Ma No 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 E quindi l'idea Di dover sradicarmi Di dover lasciare Gli affetti Perché per diventare Un attore Perché per diventare Uno noto Perché per fare il teatro A Roboso non è vero A Roboso no Io a Roboso penso troppo ai Punkabest Non è mai stato il mio profilo Però comunque Ne abbiamo fatte di tutti A Cesenatico Di tutti i colori Bisognava andare a Milano A Roma A Roma A Milano E in effetti Io il consiglio Non l'ho Vabbè raga Ok No ci sta Bravissimo Mercadini Però insomma Ci sta Che sala di Cesenatico Spacca E uno che dai consigli Si facesse anche I suoi famosissimi cazzi Sono molto d'accordo Bella per Arnold Un po' di carne al fuoco Un po' di bazzini Sono arrivato molto impreparato Perché pensavo di parlare Ininterrottamente di Arnold Vediamo un pochino di news Di news Cosa succede nel mondo Cosa succede oggi nel mondo Lo youtuber di Pietro Al Gip Ma che palla Ovvio Ma è nasce di tenere stato Mosca Putin disarmala Wagner Ma la denazificazione Come procede Vediamo un po' il profilo Del vice di Prigozin Insomma Non rientra proprio Proprio nel progetto Di denazificazione Ecco Buffone Neanche Buffone Neanche Buffone Un po' di anni fa Rientrava Nella denazificazione Non so chi sia Brozo Vediamo il post Però vediamo una bazzia Avevo visto prima C'era un articolo interessante Sul post Il giocatore di baseball Che pensi Inizia la sua squadra Mentre era fatto di LSD In Romagna Pesissima Stai zitto Non parlare Stai zitto Non parla Che viene fuori Come le intelligenze artificiali E dentro il gruppo Wagner Si sono un po' incazzati La Corea del Sud Diventerà più giovane Da mercoledì Se una tradizione Calcola dell'età Delle persone usate Finora Avrà ufficialmente sostituito Con quello standard Usato in gran parte Del mondo Ma pensa te Avevo visto un articolo Prima che era una figata Ma è sparito Ah comunque Comunque Scusate A proposito A me Marco Del numero 88 Non mi fregherete Bella squadra Grazie mille Del Prime A proposito Di 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 Vladimir Vladimirovich Ma mi hanno segnalato Dei commenti sotto Che però non ho voglia Di andarci Perché non ne ho veramente voglia Forse lo farò Non lo so Vediamo Mi hanno segnalato Dei commenti sotto La La live Insomma Lo spettacolo Che abbiamo fatto A locomotive Con Rick Di persone Che cercano di leggere Il mio filo Putinismo In ogni cosa che dico Ma per questo l'ha detto Perché voglio giustificare L'invasione russa Ma questo perché È ancora Com'è che mi disse Un tizio Una volta In live Un becero Ripetitore Della propaganda russa E anche tra le righe Anche se sto facendo finta Di non In realtà Voi dovete sapere Che in modo subliminale Non ho ancora chiesto scusa Che è il Coleman Adesso ne parlo In realtà in modo subliminale Sto ancora cercando Di portarvi Verso il mio Maestro e guru Vladimirovich La cosa allucinante Ancora non si è scusato È incredibile No Quella è sinceramente Incredibile È incredibile Perché mi sono scusato E c'è il video In cui mi sono scusato Su Weza Channel E in più Come molti hanno sottolineato Non era minimamente Necessario scusarsi Cioè se uno dice Una cazzata Ho detto una cazzata Ma lo scusarsi È da Discorsi già fatti mille volte È da inquisizione Però la cosa Che mi scoccia È che una persona dice Non si è ancora scusato È lecito È lecito Che una persona Non mi segua Perché per quale motivo Mi devi seguire Tanto più se ti sto sulle palle Ma se tu non mi segui E non sai che cosa Io dico Nei miei contenuti Non puoi dire Che io ho detto O non ho detto una cosa Perché tu semplicemente Non lo sai E quindi come fa Una persona a dire Che non mi sono scusato Palesa semplicemente Il fatto che non mi segue Visto che mi sono scusato Senza che fosse minimamente Necessario scusarsi È stato un errore Scusarmi Bastava dire Ho detto una cazzata Soprattutto il discorso Delle sanzioni Soprattutto immaginare Come si immaginava Anche Vladimirovic Piuttosto disinformato Sullo suo stesso paese Per ovvie ragioni Di effetti collaterali Dell'autocrazia Cosa di cui abbiamo già parlato Per cui non hai assolutamente Una visione della realtà Visto che ogni passaggio Della catena decisionale Tende a lisciare il pelo Al nodo superiore Per timori di ritorsioni Quindi ovviamente L'autocrate In questo caso Il dittatore Ha una visione Totalmente deforme Finisce per credere Alla sua stessa propaganda Eccetera eccetera Ma al di là di tutte Queste cose ovvie Boh E quindi niente E quindi niente E quindi niente Ma no Ma delle robe allucinare Veramente Delle robe allucinanti Cieli di fuoco Era cieli di fuoco Si chiamava cieli di fuoco E comunque È incredibile Che non si può dire Con chiarezza Se la gente Si è incazzata Più per i video Sull'Ucraina O per quello Dei rebuild di Eva No Di più Più gente Si è incazzata Per Sciame di fuoco Per il video Sull'Ucraina No ma è brutto Proprio perché Vedi Vedi veramente L'atteggiamento Inquisitorio Per cui Quella persona Deve Ma quante volte L'abbiamo visto Con il politically correct Quella persona Deve pagare Quella persona Ancora parla Si è scusata Anche se non l'ho visto Deve fare un atto Di contrizia Doveva scusarsi Di più Deve passare la vita Scusare Sono proprio delle cose Che ti mostrano Un atteggiamento Veramente rigido Veramente Illiberale Non riesco a pensare Ad un atteggiamento Più illiberale Di un atteggiamento Inquisitorio D'altra parte Il fatto che Il riconoscimento Di un errore Non sia sufficiente E anzi Il fulcro Siano le scuse L'atto di contrizione La cosa più antiscientifica Da un punto di vista Proprio filosofico Che possiamo immaginare L'errore è fecondo Se è riconosciuto Se è visto Ti sei scusato Con la critica videoludica Per mia fortuna Si è parecchio scusata La critica videoludica Con me Ma si Ma che se ne frega E poi esatto Manu Ma scusa Ma colpa mia Ma io leggo il gobbo Qui c'è un gobbo Come vi ho detto C'è un gobbo Davanti a me In questo momento Igor Ah tra l'altro Sapete che ho fatto Una cosa veramente Ho fatto un passo più lungo A proposito di passi Più lunghi Delle rispettive gambe Ho provato A iniziare Persona 4 Golden In giapponese Esperimento fallito Ovviamente Però a proposito di Gobbo Igor Igor Eccetera Ci ho provato Ci ho provato E non sono da ciò Le mie penne Però ogni cento cose Capisco cosa stanno dicendo Però non è abbastanza E quindi C'è roba che Per fare un minuto di gioco Sto un'ora sul dizionario Non è una grandissima idea Persona 4 Che ho già giocato E finito Su Playstation 2 Pur senza aver mai posseduto Una Playstation 2 E questa è la prova Che la magia esiste E quindi Sì Super Mario Wonder Ne abbiamo parlato La volta scorsa Se volete recuperare Sì sì Ma ho diversi giochi Dove si impara Il giapponese Ma non sono assolutamente Non sono assolutamente A quel livello lì Tra un anno Posso iniziare A cercare testi Da Assorbire davvero Al momento Devo solo cercare Di farmi delle basi Perché non Non ce la posso fare Che è successo Censura Policy sui minori Il caso della ragazzina Che ha criticato Chiara Ferragni È lungo È lungo Le regole di La prossima evoluzione No non è lungo Cos'è che era successo Magari questo articolo Ci ricorderà Cosa era successo E che non me lo ricordo Io allora Ho molto evoluto L'utilizzo delle app Al momento Utilizzo Vabbè Duolingo sempre Anche Per le flashcards Benchio Altre flashcards Che però hanno l'audio Ma anche quelle di Anche in realtà Pro Benchio Oramai ci ho messo Un sacco di roba Japanese Punto esclamativo Che però in realtà Non è il vero nome Dell'app È la scritta Che c'è sulla Sulla schermata Si chiama Learn Japanese Learn Kanji E poi quando metti L'app Hanno Japanese Punto esclamativo Kanji Punto esclamativo Queste due app qua E poi Satori Reader Non ho voglia Di mollargli 180 euro Vi dico la verità Quindi è ottima Ma mi sta per scadere Il mese gratis Grazie Marco Lai Grazie del Prime Le altre bene o male Le ho tutte cestinate Queste sono quelle Che mi sono piaciute di più Vi segnalo Che c'è una bellissima app Dell'università Di Cafoscari Che è un dizionario Italiano-Giapponese Fatto molto bene Anche le flashcards Purtroppo non ha Le letture audio Quindi non lo uso Ma siccome è tutto inglese Cioè in realtà Mi sto ripassando l'inglese Cioè su Duolingo Gli unici errori che faccio È perché sbaglio A costruire la frase in inglese È fatto molto molto bene Perché Cafoscari L'università di Cafoscari Pubblicò un libro Adesso non voglio andarlo a prendere Si chiama Giapponese per principianti Che lo comprai All'epoca in cui Arrivai letteralmente A pagina 2 Si capisce dai segni Che ho fatto E comunque Quest'estate Quando ero a Tokyo Sono dovuto ripartire Dall'Iragana Perché non mi ricordavo nulla E mi ricordo che a Tokyo Ancora non avevo Reimparato i katakana E non riuscivo a leggere Solo i pezzettini In Iragana Comunque sti cazzi Questo libro Giapponese per principianti Pubblicato da K. Foscari Foscari È tutto in giapponese È solo Interamente in giapponese Ed è Peso 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 No no Sì sì Steam Deck È una roba allucinata Ne parlavo all'inizio Della live È veramente una roba Pazzesca Pazzesca Vediamo la bambina Che fa paternalismo Alla Ferragni Dai Negli ultimi giorni L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni È tornata in tendenza Sui social network A ciò che ha creato Argomento di discussione Sottolineato È stato il commento Di una ragazzina Di 11 anni Sotto una foto condivisa Imposa davanti allo specchio Seminuda La ragazzina si è lamentata Del fatto che L'imprenditrice digitale Si sarebbe mostrata Al pubblico Indossando solo Un paio di slip Veicolando così Un messaggio sbagliato Soprattutto nei confronti Delle ragazze Che la prendono Come esempio Potremmo fermarci qui Qual è il problema? Qual è il problema? La Ferragni Che fa le foto come cazzo Le pare Infatti noi a volte Non possiamo già chiudere Qual è il problema? La Ferragni Che fa le foto come cazzo Le pare Farà quello cazzo Che le pare E tanto i cocci Sono suoi comunque E sti gran cazzi O il fatto che ci sono Delle ragazze Che la prendono Come esempio E per via Della discutibile Della loro decisione Assolutamente Non responsabilità Della Ferragni Di prenderla come esempio Le cagano anche il cazzo Perché deve essere Un esempio Come vogliono loro Ma sta ragazzina Può andare veramente A zappare la terra Abbiamo già finito E quindi E quindi Arnold Arnold Schwarzenegger Un austriaco In un paesino Di boscaioli E ora Vive una vita Molto simile A quella del boscaiolo Ma puoi figurare Ragazzi Non voglio sapere Non voglio sapere E figurati dai Max Chissà perché Non casco dal pero Tra l'altro Cream Chissà quanto Ha zappato Arnold Pure Andrei Pure Oh no Dopo era bello L'ho già chiuso L'ho già chiuso Comunque È peso È peso È peso Ma secondo voi È possibile Diventare un influencer Di così grande Di così Di così grande Come tutti Ghost Paranoia Chi non ha visto Arnold solo con gli sling È possibile essere Un influencer Di così grande Rissonanza Senza essere anche Un riferimento morale Cioè La Ferragni potrebbe No in realtà Perché poi la stessa Ferragni In realtà Casca male Nel senso che magari Non su quelle cose lì Ma su altre È stata Un riferimento morale Perché comunque Se c'è da dire una cosa Politically correct Eccetera Non si tira indietro Eccetera eccetera Quindi poi alla fine È inevitabile Che si creino Queste Queste situazioni Control shift team Mi sa che me lo avete Me ne avevate anche già detto Chi è Diamo fiducia Ferragni ha risposto Butualizzando ogni persona È libera di essere Ciò che vuole Senza aver dar conto a nessuno Nessuno ci può giudicare O farci sentire sbagliate Nessuna frase Paura del giudizio Tutti Possono giudicare Tutti C'è la legge E ci sono i cocci Che ognuno raccoglie i suoi Questo scambio Non è passato inosservato Molte testate nazionali Hanno ripreso Polemica Giorni dopo Accaduto Instagram Un dicenne Vari commenti Ragazzina Censura Ferragni Non sarebbe piaciuto Il commento ricevuto Perché Questa tesi è sostenuta Anche dalla madre Vittoria Che è un interesse Curiosa Affermare Io non posso accettare Che mia figlia Per aver espresso Un'opinione Peraltro condivisa Da tante persone Sia stata messa a tacere Bananata eliminata Fantastico Cosa siamo arrivati Siamo arrivati Ai genitori Che arrivano E dicono Mi devi sbannare Mio figlio Esatto Fila Esattamente È veramente Fantastico È veramente Mi devi sbannare Mi devi sbannare Mio figlio Mia figlia Effetto Van Wagon Certamente Sì Le regole di Instagram Però chiariscono Che il motivo È un altro Presione Trasparenza Che riceve fondi Da meta La società Che possiede Instagram Questo Sì Dove sono Mi ha appena detto Che sono pagati Da meta Perché poi Meta Perché Che cos'è Facto Dove mi avete portato Questo sito Riceve soldi Da meta Grazie mille Pelati Grazie mille Ma perché Meta spende Dei soldi Per questo sito Insulso Scusate Ma tu Dì Incredibile All'interno Del suo C'era la risposta Alla riga Dopo Third party Fact checking Program Qui bisogna stare attenti A quello che si dice Come lavorare Con fact check Indipendenti Certificati IFN Che individuano Controllano E valutano La disinformazione Verale su Facebook Instagram E Whatsapp Scarica la guida Il nostro approccio Al fact checking È lungo? No Leggiamolo La lotta La disinformazione È un problema In continua evoluzione Meta Ha bisogno di alleati Ci affidiamo A fact checker Indipendenti Che controllano E valutano L'accuratezza Delle indipendenti Indipendenti Ma non da noi Che controllano E valutano L'accuratezza Delle storie Tramite le fonti Originali Questo significa Intervistare le fonti Primarie Consultare dati pubblici Condurre analisi Di contenuti Multimediali Inclusi foto e video Ogni volta che un fact checker Valuta un contenuto Come falso Sulle nostre piattaforme Noi ne riduciamo La distribuzione Per ridurre la visibilità E lo etichettiamo Di conseguenza Per avvisare gli utenti Che tentano di condividerlo I fact checker Non rimuovono Contenuti Account Né pagine Dalle nostre app Poi ci pensiamo noi Di fatto Meta rimuove i contenuti Che violano il sandra Ok 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 A prescindere da faccia È incredibile Sarà beh fantastica Bella TZR50Race Questa cosa È veramente Allucida Vi ricordate Gli YouTube Heroes YouTube non ebbe Il coraggio di farla Quella cosa lì Questi altro che Questi altro che Madonna Madonna Ma certo Ma certo che sì Certo Cristiano Ah che bello Che bello Ma d'altra parte È giusto Sapete cos'è giusto È giusto È il giusto destino Di chi si informa Su Facebook È giusto Che chi si informa Su Facebook Voglio dire La polemica Chiara Ferragni Imprenditrice E voltonato diese È solita pubblicare Cosumi da bambini Blablabla Smotivo Vittima Commenti Insulti Durante festival Abito Simulavo il corpo nudo E un altro Abito peplo Abito peplo Abito peplo Bella Iovis Grazie mille del Prime Abito peplo Abito peplo Ma io Perché sono così ignorante Abito peplo Cosa vuol dire Neologismi 2008 Abito che richiama I drappeggi Di un peplo Dell'antica Grecia Tra le note fucsia Abito peplo Gera del Chaplin Ma pensate Ma pensate Abito peplo L'avete visto Vabbè Questa è passione Alcuni insulti ricevuti Previa del suo aspetto Del suo corpo Questi abiti Veicolano messaggi Ben precisi L'intenzione infatti È stata riportare L'attenzione Sui diritti Delle donne E del loro corpo E invitarla A non dare peso Ai commenti ricevuti Ok Nella foto pubblicata Le critiche sono arrivate Da una ragazzina A parte che in questa foto Non fai vedere vestiti O che sono da bagno Ma praticamente te stessa nuda Qual è il messaggio Per noi ragazzi Beh se aveva uno slip Se aveva uno slip E vende uno slip Questa cosa è falsa Che per farci notare Dobbiamo metterci nude Ha commentato l'undicenne Io non trovo un bel messaggio Non lo trovo un bel messaggio Da mandare La ragazzina La ragazzina ha continuato poi Aggiungendo che Se sua mamma Mettesse una foto così Mi sentirei malissimo Penserei che Mi dovrei vergognare Ti devi vergognare Solito discorso Il commento Messaggio per tutte Ragazzina Da parte mia Molto ossia Nessuno ci può giudicare Tutti possono giudicare O farci sentire sbagliate Pubblicare una foto Così non dovrebbe far vergognare Anzi dimostrare Ognuno è libero Fai quello che ti pare E vaffanculo La replica di Ferragni Ha creato uno forte interesse Sulla questione Da parte della stampa Blablabla Commenti Le difese della ragazza Critica La Ferragni Altri invece Oh uè ma questa Siamo sicuri che è spontanea In realtà potrebbe esserci Dietro la madre Ho dovuto disattivare Le notifiche ai suoi post Per evitare che leggesse Commenti poco piacevoli Ha raccontato Repubblica La madre Che evidentemente Deve ancora ottenere La giustizia Che è dovuta A sua figlia La questione è andata Ben oltre alle 29 fatti Il profilo Instagram Della ragazzina È stato cancellato Minchia Scatenando altre polemiche Tra gli utenti della rete Censurare e bloccare Una ragazzina doveva Per aver espresso Cervimento contro la diva Di Instagram Vergognoso Vergogna 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 Io mi vergognerei Ma perché non ti vergogni Ma non ti vergogni Ma accidenti Ma se mia madre lo facesse Io mi vergognerei Ma tutti quelli che fanno commenta Dovrebbero vergognarsi Vergognati Vergognati L'irrepreensibile Ma ti devi vergognare Viva la democrazia La democrazia La democrazia La democrazia La democrazia E la vergogna La democrazia E la vergogna Il tempo di esprimere Il suo pensiero libero Su un post E il profilo E è stato cancellato Le regole di Instagram Seconde norme Per il tale Qualsiasi persona Che abbia almeno 13 anni Può creare un account Resistente Avendo 11 anni La ragazzina protagonista Non avrebbe potuto Effettuare l'iscrizione Al social network Peraltro Stando alle dichiarazioni Rilasciate Il profilo era Attivo da 5 anni Con la chiusura del profilo Perdiamo 5 anni Di ricordi Di gare Di momenti belli Condivisi Con la comunità Dell'equitazione La ragazzina infatti Corre a cavallo A livello agonistico Il suo profilo Continua Nel numero 26 Ma la prossima volta Le salvi anche sull'hard disk Le norme idee Precise inoltre Che possono esistere Accanto di persone Di età inferiore a 13 anni Ma queste devono essere Gestite dai genitori O da un tutore E che tale indicazione Deve apparire Nella biografia dell'account L'account Ha fermato la madre Era stato creato Proprio da lei E principalmente Per lo sport Che pratica Quindi non c'è Nessun rapporto Causale Fra quello Che la ragazzina Ha detto Cioè semmai Il fatto che Il suo account Sia entrato Nella visibilità Diciamo così Ma non c'è Nessun rapporto Causale Fra le critiche Rivolte alle Ferrandi Il fatto che L'account C'è stato tolto Quindi come sempre Non si capisce Di cosa stiamo parlando Bla 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 Il profilo Era gestito In realtà Formalmente Dalla madre E nella biografia Era riportata La dicitura Run by parents A Laura Però lei Ha detto Che non era così E quindi Non era così Veramente E quindi La madre Ha confessato Che violava In realtà L'account Una confessione Tutto superflua Bastava non fare Questa confessione Va bene Vediamo Vediamo qui Dovrebbe esserci La ciccia finale Non si tratta Di un evitato La morte di una bambina Di 10 anni A causa di una presunta sfida Sì ma Il palo La frasca Le mele Le pere La blackout challenge Il garante Interpretazione Dei dati Va disposto Perciò C'è un blocco Immediato Per usare Tutti i dati Per la retana Grafica La devi accertare In modo sicuro 14 anni Piattaforma Iscriversi Chiunque Legge italiana Leggi Leggi Età minima Cazzi vostri Prossima volta Guardate la carta D'identità Per ricordarvi Quanti anni avete Per quanto riguarda In Instagram In 2019 Un utente Viene chiesto Di caretà Quando si registrano L'autonomia In Italia Un strumento Verificata Due modi Foto Documento Caricamento Video Selfie Che viene analizzato Da un sistema Di intelligenza Artificiale Per stabilire L'età Dell'utente Questo è Abbastanza inquietante Tutti i profili Che non sono Che Se no Sono cazzi Tu hai Non è stato Quindi un caso Di censura Ma Un rispetto Delle regole Del social network Hai capito Avete capito Bene 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 Quindi Possiamo tutti Criticare E giudicare Ma Al tempo stesso La Ferragni Può fare Quello che le pare Giustamente Ma l'IA È maggiorene Questa è una bella domanda Come può l'IA Così paternalisticamente Giudicarci Ma chi gliela dà Questa autorità Forse Supera i criteri Per cui Facebook Ti dà La La mannaia Per decidere Chi sono I certificati Chi può essere certificato E chi no Eh lo so Ma la Ferragni Li sbaglia È my humble opinion Mi permetto Di dire che sbaglia Equitazione E cultura Della vergogna L'IA Dovrebbe darci consigli Eppure è per quello Che l'abbiamo costruita Il Giappone Consentirà la vendita Di contraccettivi D'emergenza Senza ricetta In via sperimentale In Italia C'è la ricetta Sapete che non lo so Non mi sono mai trovato Non c'è la ricetta Bene 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 Insomma Arnold Ragazzi Volevo rimanere Focalizzato su Arnold Voi cosa pensate Di Arnold Perché ad esempio Ad esempio Il buon Jack Eh sì Guido Fece dei video Su Arnold E dance Esagerato 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 Dance Guido Cassinadri Che ha un canale YouTube Ha fatto dei video Su Arnold La filosofia Tiene svegli Dove tra l'altro C'è un mio video Con Mercadini C'è una mia Conversazione a casa sua Con Mercadini E c'era anche Guido E sono due video Se lo volete Ma ha fatto anche dei video Su Arnold Schwarzenegger Vedete Qua siamo io E Mercadini In doppio video Se volete recuperarlo Fecue Arnold La filosofia di Arnold Schwarzenegger 54 minuti Però guardate il gonfiore Di questi pettorali Ma lo stesso Lo stesso Guido Insomma È un uomo In grandissima forma Notoriamente E quindi Se volete sentire una campana Su Arnold Da parte di un filosofo Questo prima ovviamente Di qualche anno fa Questo video Potete andarlo a recuperare Non lo so Orfeo Non lo so Cotto e frullato Ma come Cosa vuol dire Cotto e frullato È una gag Ma c'è Arnold Cos'è cotto e frullato Non so niente Maurizio Merluzzo Che cacchio Cotto e frullato Ma cos'è 2013-2023 È morto qualcuno Cotto e frullato Compia dieci anni Cotto e frullato Compia dieci anni Ah e dove è iniziato Merluzzo Ho capito Beh anche lui Insomma È grossino Però non so Che cosa sia ragazzi Cosa c'entra con Arnold Auge Phil Non so se cliccare Ah che cucinava le pietanze Le frullava E le mangiava frullate Ma è interessante Cotto e frusciante Non si scherza col maestro Aspettate Prende occhi pinti Che era giovane e bello A fare l'arciere E fa una storia fantasy classica Con lui l'eroe Che deve trovare Un po' la Conan classico Senza però Incredibilmente c'è occhi pinti Non uno Non la faccia di cazzo Di Schwarzenegger L'idiota Non l'idiota nazista Ma c'è uno Che sa Ma se il povero Schwarzenegger Tra l'altro Nel documentario Va ad Si vede Va ad Auschwitz Eccetera Perché Perché frusciate Ci sono dei retroscena La denazificazione Non è arrivata neanche A Schwarzenegger Non è andata A volte È vera sta cosa Ci sono dei retroscena Sul povero Arnold Ah beh certo Vaporci Questo non abbiamo dubbi Proprio Perché povero Schwarzenegger È stato È stato così Così dipinto Adesso Per frusciate Tutto è nazismo E questo è molto Puttidiano Ah ho capito Sefo Ho capito Tutto ciò che è fuori Da Livorno È nazi Oh dio Oh dio Oh dio Oh dio Nazista È assassino Detta sua Sa qualcosa Che noi Non sappiamo Madonna Qualcosa Da dire Alla polizia Non vorrei mai Conoscere Le altre vie Di Arnold Oh dio C'è l'incontro In videoteca Aspettate 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 Devo vederla Devo vederla Cioè Andiamo a ripescare Dei vecchi Delle vecchie gag Dell'anno Dieci anni fa Quindi del 2013 Ci sta Che cazzo Fai di male Di spazio Raga Queste sono le gag Queste sono le gag Di una volta Quanta ingenuità Quanta ingenuità Quanta purezza Che cazzo Fai di male Di spazio Neger Non ti permetterei mai più Hai capito Non ti permetterei mai più Hai capito 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 Spazio Neger È il mio maestro Spazio Neger È il mio maestro Ma te non ti ho Per mettere Ma te non ti devi per mettere Non ti devi per me Lui ha portato Il cinema nel mondo Ha portato Il cinema nel mondo Ha portato Chi l'ha fatto Terminator Non l'ha fatto te No L'ha fatto Ci farsi nero Te non devi parlare Di ci farsi nero Ma è Il brusciato È veramente enorme Sì 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 Confermo Confermo Lui che ha rappresentato Chi è? Se l'ha tagliato Cameron In braccio Poi se l'hai levata davvero La pelle Se l'hai levata davvero La pelle Questo è rischiato Veramente la mani sul muso Io gliel'avevo detto Ma scusa ma se c'era il cameraman dentro Cosa ha rischiato? Non capisco Forse il cameraman dentro Era quello di Frusciante Ho fatto il montaggio dopo Non si menano Quindi si abbracciano Volevo sentire l'opinione Su Schwarzenegger Perché devo capire Perché è nazista Però sei troppo piccino Occhio ma non lo fai Come uno e cose Cento di Vero Attenzione Erano i licaoni Ragazzi Io non ce la posso fare Non ce la posso fare Comunque essere cresciuti Cioè se tipo Una persona è nata nel 2000 Queste Cioè queste sono le cose Che poi uno da vecchio Si ricorderà Cioè nel senso Io magari Mi viene la La crimuccia Con le pubblicità Delle reti berlusconiane Di quando ero piccolo E invece Magari alcuni di voi Quando saranno vecchi Tipo a 70 anni Penseranno Eh Ah cazzo Ma ti ricordi Ti ricordi Quella volta Che Berluzzo Entrò da Frusciante Ah cazzo I bei tempi I bei tempi È normale È normale che sia così I bei tempi Soprattutto i otobi Soprattutto i otobi I lica Ma cosa cazzo Sono i licaoni Cioè a parte l'animale Dico Ma siamo sicuri Che questa golden age Fosse molto golden Devo sapere Scusate È finita male Sta live Licaoni I licaoni Digital studio Ciao Che cazzo Un anno fa Meno recenti 15 anni fa Corso di cazzotti Ma cos'è Ma pensate Popolari 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 Vabbè È corso di cazzotti Ha fatto la storia Ha fatto la storia Ragazzi Sono loro che hanno scoperto Frusciante Registravano le sue recensioni Monografiche No raga ma è incredibile Cioè quindi all'epoca Quelli erano quelli Che registravano Frusciante No ma raga Ma raga Ma che cosa cazzo Mi venite a dire Incredibile Incredibile E qui c'è Frusciante Sigla E sigla sia Le sigla La rubrica per spiegare Non come premere i pulsanti Ma perché Premerli Che cos'è Uno scavalcamento di campo Cosa si intende Per il montaggio invisibile Capire Ma non c'è Frusciante 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 Di piccola peste E rotta il cazzo Perché Piccola peste E rotta il cazzo Ma dov'essero Grado film Hanno girato I video importanti Di mezzo a Youtube Negli anni 2013 2016 Ma incredibile Ma pensa a te Ma pensa a te Ma tu dimmi Incredibile Ma Yotobi Cosa combina Aspetta Mi avete messo La pulce Yotobi E questo l'ho visto Questo qua Qua c'era Silvestrine Questo l'ho visto Sto video Mi sono fatto anche Un sacco di gags Anche questo l'ho visto Anche Anche questo Anche questo L'ultimo non l'ho visto Questo non l'ho visto Questo l'ho visto Questo l'ho visto Questo Il colosal italiano No questo non l'ho visto A me piacciono Sì i video nostalgici Però sono un po' Iperprodotti Mi piaceva Quando ero Più Più homemade Yotobi è una persona Che ha dieci anni Meno di me O qualcosa del genere E ha le nostalgie Sbagliate Perché lui Ha le nostalgie Di quando io ero Già troppo grande Dovrebbe avere Nostalgie un po' più vecchie Allora li recupero Li recupero Li recupero È dell'88 Ha sei anni Meno di me 88 82 Yotobi Una marea E poi fa le recensioni Top 3 Preferiti 2008 Ma lui è un'inizio Ma lui è un'inizio recensiva Cose serie Poi a un certo punto Deve avere Questo è veramente Angry Video Game Nerd E T per Atari Il migliore video di Yotobi Aspetta Il migliore di questo gioco E che tutte le riviste Tutti i siti internet Lo considerano il gioco peggiore Nella storia dei videogiochi E come c'è scritto Sapete qual è la cosa assurda La cosa assurda Per Yotobi si potrebbe fare Una teoria complottistica Simile a quella su Paul McCartney C'è C'è Cazzo Tutti invecchiano Tutti invecchiano Io, tu, tutti La chat Tutti invecchiano Ma cazzo Yotobi è veramente cambiato Cioè È proprio Diverso Cioè Non sembra La stessa persona più vecchia Sembra un'altra persona È stranissima sta cosa E a me vi fa un'impressione Cazzo Non è la stessa persona Ma per me Realmente è un altro È proprio diverso Secondo me Yotobi a un certo punto è morto E qualcuno l'ha sostituito Ma infatti Non è che è vecchio È proprio diverso Ma è fisicamente diverso Sono diverse le proporzioni Della faccia Ma non è la ciccia È diverso Per me è veramente È stato sostituito Come Paul McCartney Quindi Yotobi Quello originale E Paul McCartney Quello originale Sono da qualche parte insieme In questo momento Ma pensa a te Che roba Ma sono tanti Ma forse una volta Mi sembra che una volta Ce ne fossero di meno Ma sarebbe che mi ricordo male Recensione film Sì 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 Luca Eh ci starebbe Melonius Ci starebbe davvero Madonna Dovremmo veramente farla Il complotto dei complotti Con la chat Featuring la chat Quando è che parte mostarda Mi ricordo questo video Me lo ricordo di brutto 3,9 milioni di visualizzazioni Non è che parte mostarda Ma io li ho visti tutti Molti anni dopo Cioè non li ho visti all'epoca Mostarda Esatto Qui Nove anni fa Che la gente si incazzò Perché non faceva più Le recensioni Però poi alla fine Madonna 3,6 milioni di visualizzazioni Che qui facciamo Un po' Luttazzo Dele di questo video Perché poi sono quei video In cui la cosa di cui parla Fa già talmente ridere Di suo Che c'è uno che ci dice Anche delle strazzate sopra Alla fine Mi ricordo Pausa Tutti in campo Con Lotti Qua forse l'ho visto Quando è uscito Già Eh mi sa No però questo no Non lo so Ah sì sì I late show sì Merda Da quanto cazzo Che sto su youtube Anch'io Minchia Vabbè che non me ne hai mai Fregato così tanto Però cazzo Mi è passato di tempo Peso Peso raga Peso raga Max Lege Non lo so Phil Non so se fidarmi Mi sembra una cosa Un po' sconcia Così Sì sì Tosato Qualcuno Sicuramente Mi ha conosciuto I video di cui Prado di io Tom No Pesissimo Volpe Cosa mi stai dicendo Assurdo 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 Ma poi tra l'altro Su internet Hai quella sensazione Non dico che il tempo Non passi Però una cosa vecchia Su internet È diversa Da una cosa vecchia Nel mondo reale Cioè Si dice questa cosa Di dieci anni fa Ma una cosa Di dieci anni fa Su internet In fondo Voglio dire questo La banalità Che sto cercando Di dire È questa Questo oggetto Non è invecchiato Capito È Sì È invecchiato Nel senso Ci sembra vecchio Però È perfettamente Conservato Ecco Ecco Questo voglio dire Internet Congela da matti Poi ovviamente Sommerge E sommerge Però Mi fanno Veramente molto strano Dieci anni Su internet Sono una cosa assurda Stavo pensando Di recente A Duolingo Duolingo È un'applicazione Vecchissima Tipo Ma Di recente Da quanto tempo Abbiamo l'account Steam Qua c'era gente Che ce l'aveva Dai primi anni 2000 Io dal 2006 2007 E' allucinante E' allucinante Pazzesco Sistiana Chi è Sistiana? Forse abbiamo già fatto Sta gag Chi è Sistiana? Quattro giorni fa I miei cibi preferiti Che sapere che questa ragazza Ha il canale Indicato da Yotobi Queste sono i retroscena Che vorrei conoscere Perché Sistiana? Cioè questi ho capito I Pantellas Si conoscono Amici Icriul Cos'è Icriul? Daniele Doesn't matter Pensate Videogiochi Italia Cos'è Icriul? Buonanotte Buone botte Eh sì 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 Eh sì 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 Icriuli Ma che cos'è? Ma cos'è sta roba? Riga sotto Cosa c'era nella riga sotto? Ideato da Karim Bunza Ma lo sappiamo che lui è in Grow Up Lo sappiamo benissimo No no ma lo sapevamo No no certo certo Video che hanno acquistato valore nel tempo Aspettami Xbox Ma cos'è sta gag? Mi intendo Ma cos'è sta roba? Ma cosa cazzo è sta roba? Sono dei leak fake Di una volta E non lo so Vediamo Daniele Doesn't matter Che io mi ricordo Che una volta guardai Dei suoi video Che erano tipo Le cento cose Le mille cose Ciao sono Daniele Sto male Aspettate Sei un bugiardo Primo appuntamento Reaction Acqua in bocca Ridere con l'acqua in bocca Prova a non ridere Che amarezza La thumbnail però ragazzi Però funzionano di brutto Le provano a ridere Beh Non ha mica mollato il colpo Però non ha mica mollato il colpo Dorian Madonna cosa mi tirate fuori Oddio Me lo ricordo Per YouTube fa cagare Me lo ricordo Per YouTube fa cagare Non ha mollato il colpo per niente Un giorno fa Quattro giorni fa Sei giorni fa Pazzo per Gesù Ma pensa Ragazzi ma questa è una vecchia tradizione Di Wesa Twitch Ragazzi ma questa è una vecchia tradizione Da quant'è che non andiamo a vedere Un video dei Pantellas raga Da quant'è che non lo facciamo Da quant'è che non Un giorno patente No raga ma da quant'è Non abbiamo mai finito Un video dei Pantellas Non so quanti minuti Siamo riusciti a vedere Classici Disney nel 2023 Qua c'è della critica sociale Pesa Qua si sono evoluti Ho i Pantellas per te Lo scudetto del Napoli Che fatica Non so se Clicchiamo Clicchiamo la critica La sottile critica Nocciole tostate italiane Devo ammettere che questi gelati Sono molto buoni Ho ceduto alla pubblicità Dei Pantellas Perché questa immagine Della periferia di una città Dovrebbe rievocarmi Disney No vediamo la critica sociale Signori mi raccomando Da quest'anno Bisogna fare la storia Della nostra azienda È molto importante Puntare sui live action Per far rivivere Le grandi emozioni Minchia raga Quindi sarebbe Io però voglio arrivare Almeno a vedere una gag Ve lo dico Una la voglio vedere Eh beh sì Motoscalzo Il livello è sempre stato quello Io voglio vedere Almeno una gag Bella dimmi Buon gustai Grazie del Prime Eh beh Loro non sono di Torino Non so mica Romagna È un po' Sonar Un po' come Schwarzenegger Con l'accento Vedi Michael Reganiz È stato un periodo Che li guardavo di brutto Un periodo Vado avanti Ma Michael Reganiz Faceva ridere Scusa Faceva delle gag buffe Io penso di essermi fatto Delle grand gags Dite che Era meglio se non lo dicevo Ok Forse sarebbe Da rivedere ora Non lo so Ehm Si animati Ad un livello superiore Ottimo Beh direi che Il primo classico da fare È sicuramente La sirenetta Ah ma c'è la Avete visto Avete visto La critica sociale Avete visto Nel No 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 ragazzi E invece C'è la sottile critica A parte la recitazione In quello che sarebbe Ma che bandiera Maggioranza Ma che bandiera Della pace Ottimo Beh direi che Il primo classico da fare È sicuramente La sirenetta C'è la bandiera Della comunità LGBTQ plus Con tutte Le possibilità Che hai a letto Di divertirti Una per ogni colore E tutte Tutte le identità Che tu puoi Ci sono tutte le identità Critica Allanato E che secondo me Sono tutte le identità Che tu puoi essere Con cui puoi andare Binarietà E non so C'è tutto E quindi Che cosa ti stanno dicendo Ragazzi vi spiego Perché qua Veramente Siamo a dei livelli elevati E quindi Ti stanno dicendo Nel Questa in realtà È una metafora meravigliosa Quindi ti stanno dicendo Che nel Nel quartier generale Disney Si segue Un'ideologia Una visione Che non ti puoi Limitare È chiaro Che non puoi Come direbbe Emanuele Castro Non puoi limitarti A lottare Per Contro le discriminazioni Se non ci metti dentro Anche la lotta di classe E quindi Penso che Io credo Che quella dei Pantellas Sia Una Critica Da una posizione Liberale Reazionaria Al progressismo Magico Mi piace Bene Allora Ci sono Molte attrici Somiglianti Alla versione animata Capelli rossi Pelle chiara Quanto sono Di Daskalici In un modo Peso Ad esempio Lei Io sta cosa Sta cosa Questo ricorda Veramente Quelle cose La Bonolis Per cui Se c'è una ragazza Considerata bella Cioè deve sempre Essere una sorta Di Abominio La voglioniera È così È così Offensivo Questo video È così È offensivo Questo video È offensivo Questo video È offensivo Questo video È veramente Questo video Mi porta totalmente Dal lato LGBTQ+, Questo video È Orrore Questa gag È stata Veramente Sì Anche io sono Molto Uncomfortable Uncomfortable Verda Raga Questa Veramente Questa Sapete cosa Siamo orfani Oltre che orfani Di Berlusconi Siamo orfani Del bagaglino Del bagaglino E questo Cos'è Solo le ragazze bianche Sono piacenti Le nere no No Sono piacenti anche Le ragazze Di colore Però essendoci Un riferimento No Non ce la faccio No Quando Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio No Non ce l'ha fatto No 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 Sapete Sapete Qual è una delle cose Sapete Qual è una delle cose Più difficili Da sostenere Per lo sguardo E la mente umana Quando In un video Diciamo Per amor di patria Rivolto ad un target Infantile Si cerca Di inserire Un discorso serio Che non è più Una parodia Ma vuole essere La voce Che in alcune In alcune circostanze È tipo il secchione Cioè quando La produzione Di un certo livello Vuole rappresentare La voce Di un altro mondo E non può farlo Perché Se no Non sarebbe Una produzione Di quel livello E lì sono i momenti In cui si raggiunge Veramente L'impossibile L'antimateria L'anticubo Di Fez Veramente È oltre È veramente oltre Bromance Arnold Franco Tre minuti Dai Ah vediamo 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 Immanuel Ah ma poi È quello Che poi Diceva Da shy Credo Sia quello Che diceva Da shy Contro La deriva Antiscientifica Nel movimento Progressista Non mi sta Tutto Neoschir Devo No ma queste cose Credo Ok Ci sta Ci sta Ci sta Ok Combattere Tre minuti Negando Il dato Scientifico Negando Non confutando Ok La storia Piena di uomini E donne E non sono Che forti Solo di un'intuizione Hanno sfidato L'autorità Scientifica Ok Ok Molo di evidenza Ok Ok E volevo vedere Cosa Da progressista Razionale In opposizione Al progressismo Amasi Non posso sostenere Il corso A tesi Antiscientifiche Per quanto sia Alta la causa Che si intende Sostenere Anche perché Non è necessario Farlo Il determinismo Si combatte Sul piano Filosofico E politico Mostrando falle E impatto Negativo Ok Fatto L'obesità È considerata Dall'OMS Una malattia Ed è con causa Di molte altre patologie Poiché le persone Obese sono malate È giusto giudicare I loro corpi Marginalizzarle Farne una narrazione Drammatica Le umiliamo Per il loro bene Solo così Si redimeranno Dalla loro condizione Vabbè chiaramente Aspettate A questa tesi Il progressismo magico Risponde negando Il dato medico Su cui la tesi Si regge Ok Ho capito Ho capito Cosa vuole dire Eh ci sta ragione Sì 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 È logico È logico Per il fatto Che Non è necessario Negare Il dato medico Per contrastare L'umiliazione Dell'obeso Va bene Dai dai Sono d'accordo Figurati se non sono d'accordo Claro Claro Meglio Giorgione O Max Mariola Spero sia una domanda retorica Sapete che mi triggerate Sapete che mi triggerate La risposta di Giacomo Ric Perseo ma cosa È una trappola Perseo Ma hai fatto il trappolone Sta per partire Giovanna Botteri Porca Era ovvio Era ovvio Era ovvio Ma Max Mariola È simpatico Ma dai Max Mariola È simpaticissimo È un po' così Un po' boomer Ma va bene Ragazzuoli È tempo di tirare le fila Questa live Era partita bene Poi c'è stato Abbiamo guardato un pochino Abbiamo guardato un pochino Nell'arena Per vedere il sangue Perché siamo umani E dopo non ho capito Ma le cose hanno preso Una strana piega In ogni caso Ragazzuoli Ho retto molto Beh pensavo sarebbe stato pesissimo Invece è stato molto easy In ogni caso ragazzuoli Ci vediamo giovedì Facciamo un talk O no Vediamo Vediamo Aspetta Krimr Ti cliccherò qui Aspetta un secondo Krimr Non so chi sia C'è la pubblicità Non lo saprò mai C'è E Dai Dai ragazzuoli Ci vediamo giovedì E poi vediamo Vediamo Live video ludica Non saprei Non saprei Su cosa buttarmi Adesso Era Douglas Morty Che app è Nick Fammi vedere che la clicco qua Ah tu dai Sì 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 Ma non sono abbastanza Sì sì La conosco La conosco Troppo difficile per me adesso Tra un annetto Eh ma non voglio iniziare adesso Una run Quindi sarebbe comunque una one shot Ci pensiamo Ci pensiamo Ci pensiamo L'ultimo Monkey Island Non l'ho ancora comprato L'ho messo nella wish list Quando lo mettono in sconto Ragazzi state benissimo Ci vediamo giovedì alle 14 E poi E poi decidiamo Pensiamo Valutiamo Vediamo Vediamo Ciao ragazzi Grazie Grazie mille Di aver seguito Grazie mille